Buongiorno a tutti, alle colleghe e colleghi presenti qui nella sala seminaria di Cassa Forense, ai colleghi e alle colleghe che ci seguono da remoto. Il Presidente Nesta mi ha dato l'onore di introdurre questo incontro, un incontro che come Consiglio dell'Ordine riteniamo molto importante perché direi quasi storico. Va il merito al Presidente Nesta e al collega Petillo, che è un pochino anche a me, di avere introdotto qualcosa che penso nell'Ordine di Roma almeno non ci sia mai stata, cioè una commissione, un gruppo che si occupa. Grazie. Grazie Paolo, buongiorno, un cordiale saluto a tutti i presenti in sala, a coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming. Tema del convegno estremamente importante e riveste un carattere di novità, le nuove frontiere della comunicazione e del marketing legale. Profili applicativi. Dico subito, vorrei fare una premessa. Non siamo in America, negli Stati Uniti d'America, dove agli avvocati è consentito di farsi pubblicità, a volte anche in modo, non dico maldestro, però non confacente a quelli che sono i principi deontologici che noi applichiamo in Italia. Come ben noto, l'avvocato in Italia non può farsi pubblicità, può invece riferire in merito a quella che è la propria attività professionale, a quella che è la specializzazione del suo studio. deve fornire sempre delle informazioni veritiere, trasparenti, non comparative o suggestive. Ciò perché, in applicazione del nostro codice deontologico, l'articolo 3 e l'articolo 1,3, sostanzialmente le norme deontologiche sono a tutela della collettività, visto anche il ruolo importante, il ruolo sociale svolto dagli avvocati. Allora, fatta questa premessa, il marketing legale, in che cosa consiste? Intanto voglio dire che molti colleghi, forse la stragrande maggioranza dei colleghi, non conoscono il marketing legale, o meglio, a volte sono anche diffidenti perché lo riconducono a un profilo di promozione del proprio studio. Secondo noi, almeno secondo il nostro intendimento, quando abbiamo costituito la commissione marketing legale, della quale il vice coordinatore, l'amico Guerrino Petillo, non è questa la finalità. La finalità è altra, cioè come migliorare l'aspetto relazionale con il cliente. E sotto questo profilo, la comunicazione svolge un ruolo fondamentale. Un ruolo fondamentale al fine anche di migliorare, di conseguire quelli che sono gli obiettivi che si prefigge il professionista. Che cosa voglio dire? Cioè c'è l'esigenza intanto di garantire una maggiore visibilità, un miglior rapporto nei confronti del cliente, curare la relazione in modo più adeguato sempre con il cliente, se possibile umanizzare il rapporto con i nostri assistiti e informare ovviamente anche sulla propria realtà professionale. Quindi il marketing si pone come un momento di crescita professionale e anche è finalizzato ad acquisire una maggiore responsabilità nei confronti del cliente sotto il profilo etico e sociale sicuramente e anche ad acquisire una più salda reputazione del brand dell'avvocato perseguendo quello che è il valore e non il profitto, almeno in prima battuta. Poi è chiaro che a seguito del valore e dell'apprezzamento conseguirà, e questo mi pare anche conseguenziale, il profitto per il professionista. Quindi ecco, accennavo prima, noi abbiamo costituito, forse siamo i soli in Italia come ordine di aver costituito una commissione marketing che avrà proprio questa finalità di rendere i dotti, di informare i colleghi, di acquisire l'attenzione dei colleghi per raggiungere gli obiettivi che noi vorremmo prefiggerci, che ci siamo prefissi. Quindi a questo punto non voglio dilungarmi ulteriormente, anche perché devo ora allontanarmi per il motivo al quale accennava il collega Voltaggio, l'amico Paolo Voltaggio. Quindi auguro buon lavoro e mi spiace veramente non poter essere presente perché avrei acquisito nozioni, avrei approfondito la tematica, ma ci sarà occasione magari in altri eventi formativi per poter fare questo. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Non è sufficiente arrivare al primo posto o avere milioni o migliaia di follower su Facebook, abbiamo anche dei casi per chi frequenta i social anche tentativi maldestri di apparire subito sui social, penso senza nessuna critica alle colleghe di Torino. Il problema, sicuramente lo affronteranno i nostri relatori questo tema, il problema non è acquistare, come è un inganno nel quale sono cantato anch'io, libri sul social marketing che ti insegnano come arrivare al primo posto, perché il problema, a mio avviso, non è tanto far cadere il cliente nel famoso imbuto di cui parlano tutti questi libri e quindi farlo entrare nel nostro studio, ma il marketing è molto di più perché l'avvocato è l'avvocato il prodotto che offre alla clientela, quindi è un concetto molto più ampio che investe tutta la figura dell'avvocato, non solo la competenza, il saper trattare un determinato argomento, ma proprio la sua persona, la sua immagine, i suoi valori, la sua empatia, la sua forma di comunicazione, come si rivolge al cliente, come lo tratta. Non è soltanto acquisire il cliente, parleremo anche del preventivo, fargli il preventivo e portare a casa il compenso, ma è un modo di essere, un modo di vivere a 360 gradi e quindi è molto importante affrontare questo tema che quindi affronta il tema dell'avvocato a tutto tondo e proprio in questo senso è importantissima qui la presenza anche del già segretario del nostro ordine, segretario emerito del nostro ordine, ora coordinatore dell'organismo congressuale Forense, ma soprattutto per quanto riguarda un carissimo amico, Mario Scialla, perché credo che abbia colto proprio nel suo essere coordinatore che anche nella sua funzione di coordinatore di OCF in qualche modo deve occuparsi di marketing, perché occupandosi dei problemi dell'avvocatura nei confronti delle istituzioni, in qualche modo contribuisce anche all'affermazione dell'avvocato come, tra virgolette, prodotto. Più l'avvocatura è rispettata, più l'avvocatura è sentita, più la giustizia funziona e più il nostro prodotto è, uso un termine molto antipatico, però questo è il marketing, è vendibile, è a favore dei cittadini. Quindi grazie Mario, grazie coordinatore per la tua presenza e a te la parola per un saluto. Buongiorno a tutti, per me è un piacere essere qui e devo dire che l'interesse è duplice, perché quando ho organizzato la giornata di oggi, perché mi devo organizzare, tra le tante cose, gli impegni di lavoro, per cui purtroppo alle 11 e tre quarti l'udienza dovrò andare, però fino a quelle business. Però nella scelta degli impegni ovviamente ho privilegiato il cuore, perché sono fra amici e persone che stimo, ma anche quella che è la rispondenza con tutta una serie di attività che sta ponendo in essere l'organismo congressuale forense, perché oggi si dibatte qualcosa di importante. Cerchiamo di essere antesignani. Io sto girando da ottobre su tutto il territorio nazionale e porto avanti quelle che sono le battaglie dell'avvocatura, quelle classiche, quelle sulla giurisdizione, sulla cartabbia, sull'aumento della produttività in termini di cause, perché quelle essenzialmente ci danno il lavoro. Ma stiamo molto attenti, soprattutto per una professione in difficoltà, che annaspa a livello economico, soprattutto come è la nostra attuale, a individuare nuove competenze. Non è un'operazione semplice, perché noi siamo ancorati a dei principi deontologici e quindi in qualche modo per esserci una norma come quella che ricordava il Presidente Nesta e forse un'ancora più specifica che andremo a guardare quest'oggi come limiti entro cui ci possiamo muovere, c'è un motivo per arrivare alla norma deontologica, si vede che si voleva prevenire un certo tipo di aggressività, un certo tipo di atteggiamento incompatibile con la professione. Ora il ragionamento che mi proviene dai territori, dagli ordini, dalle associazioni di tutta Italia, non c'è differenza di latitudine e longitudine, è che non dobbiamo essere noi stessi a bloccare quelle che sono le iniziative. Nella sana competizione che noi dobbiamo avere con le altre professioni, dico sana perché abbiamo promesso alla politica che sarà uno sviluppo complessivo, non settoriale, non ci sarà cannibalizzazione, è proprio un discorso strategico. Noi lo facciamo perché dobbiamo crescere tutti a livello professionale, non levarci spazi di competenza. Però i territori ci chiedono di non essere noi stessi a pregiudicare quelli che sono gli interessi tra virgolette di categoria. Marketing significa anche ottimizzare i risultati e quindi pensare al profitto. Ora noi, professione intellettuale, io penale in particolare che curo da sempre, siamo incompatibili con questo tipo di ragionamento? Assolutamente no. Bisogna vedere come lo poniamo in essere, con che attenzioni e se sarà un modello vincente. Ed è importantissimo che ci sia una commissione dell'ordine perché dentro la casa dell'avvocatura risiedono i principi deontologici, quindi noi dobbiamo muoverci piano ma all'unisono verso queste direzioni. Perché? E ci dice la norma soprattutto l'articolo 17 che tutto quello che riguarda l'informazione e l'esercizio dell'attività professionale è a tutela dell'affidamento della collettività. Non per noi ma per chi viene da noi. E quindi è consentita l'informazione sull'organizzazione struttura di studio e tutti quelli che sono i profili personali, quindi titoli e quant'altro. Poi le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo anche informatico è chiaro che siamo in quell'ambito debbono essere trasparenti veritiere corrette non equivoche non ingannevoli non denigratorie o suggestive e non comparative. E allora qual è la grande sfida? Muoverci con attenzione con i principi che abbiamo avete visto come sono specificati bene ma proiettati verso il futuro senza inutili zavorre. Come organismo congressuale forense stiamo organizzando dal 10 al 17 luglio con l'ordine di Milano la settimana dell'innovazione proprio Pedeli a questo assioma si va avanti si guarda al futuro ma da avvocati altro obiettivo strategico tanto caro a Guerino con il quale mi incontro ovunque e questo mi dà una grande soddisfazione Milano proprio il convegno che si è organizzato a Milano dove era presente il vice ministro dell'economia sia io che il presidente dell'ordine di Milano abbiamo avuto la fortuna poco prima del convegno di avere una riunione a tre dentro la sala di presidenza anche lì qual è l'obiettivo quello di godere dei benefici che hanno gli imprenditori a livello fiscale ora che si va a delineare un nuovo ambito consapevoli che non siamo imprenditori sapendo che la logica è diversa ma perché a priori noi dobbiamo ingessarci e allora qui sta la difficoltà ma qui sta anche come dire la grande attenzione lo stimolo e l'obiettivo quello di crescere compatibilmente altri profili ci vengono segnalati dal territorio ha ancora un senso parlare di incompatibilità nel settore societario cioè noi dobbiamo sospendere un avvocato che viene ad ottenere un ottimo risultato ad esempio amministratore di società prima di dire no sì come vediamo ovviamente che tipo di attività verrà posta in essere ma non dobbiamo impedire che l'avvocatura cresca anche in quell'ambito perché io poi quello che dico sempre anche ai miei colleghi del direttivo noi dobbiamo creare le teste di ponte perché poi ci sarà il traino a quel livello poi si tira l'avvocatura non è che poni ostacoli all'avvocatura e vuoi stare solo tu quindi dobbiamo ragionare io lo vorrei fare anche nell'ottica congressuale perché bisogna dare anche le gambe a queste idee e noi abbiamo una grandissima opportunità il congresso straordinario nella sessione ulteriore che si terrà dovrebbe essere il 15 e il 16 dicembre ora ci incontreremo il 28 e stabiliremo esattamente le date probabilmente concentrato su due giornate uno dei gruppi di lavoro è modalità e forme di esercizio della professione è lì che bisogna far rientrare questi aspetti una società tra avvocati che gioco forza sarà il futuro deve essere inerte soprattutto nei confronti delle altre professioni su questi temi comunicazione e anche una valutazione del profitto e diciamocela tutta ma non facendolo noi dobbiamo dare spazio a chi poi lo fa magari in maniera non corretta allora andiamo a vedere bene gli aspetti andiamo a vedere quello che è veramente utile e quello che invece deve essere eliminato ma non siamo remissivi a prescindere non siamo come dire poco lungimiranti la politica l'abbiamo sotto questo profilo in qualche modo attenzionata bisogna farlo con l'avvocatura ecco io sento la spinta dei fori dove sono andato praticamente dopo sei mesi ho concluso il mio primo giro ora provvederemo anche a livello più settoriale ma i grandi fori sono stati raggiunti anche la rappresentanza istituzionale del Consiglio Nazionale Forense quindi consapevole di questa nuova esigenza dell'avvocatura e stiamo lavorando insieme proprio per dare corpo a queste che al momento sono solo idee quindi benvengano incontri come questi cerchiamo di andare ad essere come dei laboratori che fanno le prove verifichiamo quello che possiamo fare e fino a dove mantenendo saldezza nei principi ma grandissima apertura verso il futuro senza preconcetti e senza loccioli inutili che andiamo a mettere noi stessi grazie e buona prosecuzione grazie grazie Mario un ringraziamento particolare lo dobbiamo a Cassaforense che ci ospita a tutte le associazioni che hanno promosso e organizzato questo incontro e anche e soprattutto al media partner del gruppo Sole 24 Ore che è presente e poi il dottor Galimberti farà da coordinatore e moderatore della tavola rotonda prima di terminare l'indirizzo di saluto voglio dire un'ultima cosa che in pratica è alzare la palla a favore dei relatori chi si muove cercando di imparare il marketing penso e spero abbia capito che il marketing non si fa da soli ma c'è bisogno di un esperto che che conduca una sorta di coach che porti l'avvocato a fare qualcosa che non sa fare e chi un pochino si muove nei social si sia reso conto di quanto non vuole dire una parola forte di quanto si venda fumo di quanto ci siano persone che dicano soltanto vuoi aumentare la tua clientela e offrono non voglio fare i nomi e cognomi ma chi si muove sui social li ritrova spesso come suggerimento come è e quindi questo per dire che è importante farsi seguire da chi da chi ne sa di marketing e da chi può condurci in questo percorso quindi io come dico sempre adesso sono contento di cessare questa parte così di indirizzi saluto e sono qui proprio per imparare perché come dicevo all'inizio il marketing è qualcosa dal quale non possiamo e non dobbiamo prescindere quindi chiedo all'amico Pedillo possiamo far venire qui il dottor Galimberti e quindi entrare nel vivo del nostro incontro eventualmente ci dica lei chi invitiamo noi possiamo anche mettere ah scuro prego manca il saluto del collega Fabrizio Valerio Buonanni Saraceno componente della commissione marketing che parla per le associazioni che hanno promosso questo incontro io come dicevo mi metto in platea perché sono qui per imparare il marketing buongiorno a tutti ringrazio di avermi fatto partecipare l'amico collega Guerrino Petillo e tutta la commissione di marketing legale io oggi sono qui per presentare orgogliosamente una nuova realtà sindacale quindi più che un'associazione è un sindacato che è il sindacato avvocati che nasce per tutelare l'avvocatura tutta e unire e soprattutto non dividere al di là di ogni individualismo ripeto al di là di ogni individualismo perché vedete mai come in questo momento io credo in questo frangente storico l'avvocatura abbia bisogno di essere tutelata e garantita e velocemente spiegherò anche il perché il significante avvocato deriva da advocatus chiamato presso quindi è una è un soccorritore è una funzione di soccorso di soccorso per il diritto tramite il quale il cittadino viene difeso quindi tramite l'avvocato si declina il principio costituzionale della difesa del diritto alla difesa senza l'avvocato non si potrebbe delinare questo diritto costituzionale quindi l'avvocato è fondamentale per la società perché esercita svolge una funzione fondamentale cioè la difesa ebbene questa difesa spesso però viene come dire mortificata il ruolo dell'avvocato viene mortificato e per questo abbiamo ideato abbiamo eh fondato questo sindacato avvocato di cui poi Petillo Guerrino è presidente e abbiamo qui presente anche il vice presidente Luigi Piccarozzi che saluto per contribuire a ridare quella dignità quella dignità professionale che spetta all'avvocato che ripeto ultimamente è stata messa in discussione in varie situazioni ricordo a voi tutti recentemente qualche mese fa quando un giudice dell'udienza preliminare e riferendosi a un imputato disse che non c'era bisogno di rivolgersi all'avvocato per vari motivi poi ci furono le scuse però questo è uno dei tanti episodi che viene a toccare eh la dignità eh della dell'avvocato e e soprattutto poi eh uno dei compiti che si prefigge il sindacato avvocati è quello di ehm dargli incentivare un riconoscimento istituzionale perché vedete credo cioè noi troviamo troviamo inaccettabile che ogni qualvolta che si affronti una riforma sulla giustizia vengono eh consultati sentiti automaticamente giustamente automaticamente un magistrato la magistratura ma mai consultato un avvocato l'avvocato non è mai preso in considerazione dal legislatore per entrare nel merito di una riforma della giustizia consentita in questa libertà e molto spesso poi si vedono risultati infatti allora noi vorremmo che eh l'avvocatura che è il diciamo l'avvocato che è il colui che permette dell'esercizio del diritto alla difesa venga consultato ogni qualvolta si affronti una riforma riforma cartabbia riforma del del codice dell'ex codice fallimentare il codice della crisi di imprese e dell'insolvenza e non a caso a proposito di questo codice visto che sono specializzato in questa materia nella relazione illustrativa addirittura si è arrivato al punto di dire riguarda a un istituto stragiudiziale che per velocizzare i tempi non c'è bisogno di fare riferimento a un avvocato a un patrocino dell'avvocato e questo io trovo scandaloso come se l'avvocato ritardasse i tempi della giustizia come se l'avvocato fosse ostativo alla velocità della giustizia ma questo accade perché quando si fa una riforma non c'è un avvocato perché questo questo è purtroppo il redaggio culturale della nostra Repubblica o meglio della nostra Costituzione che per ragioni storiche che ora è inutile che qua vengo a raccontarvi c'è un vulnus costituzionale che io chiamo dissonanza costituzionale per cui giustamente ripeto non è contro ma è per denunciare quello che manca all'avvocatura non quello che viene dato alla magistratura la magistratura l'ordine dei magistrati è un ordine costituzionale è riconosciuto tale e il consiglio superiore della magistratura è un consiglio è un organo di rilievo costituzionale quindi ha una garanzia costituzionale ebbene quando affrontiamo quell'ordine che garantisce il principio costituzionale del diritto alla difesa nella Costituzione non viene citato non viene nemmeno preso in considerazione né tantomeno l'ordine né l'ordine degli avvocati ma tantomeno il consiglio nazionale forense e per questo poi quando il legislatore va a fare una riforma non si preoccupa di sentire colui che è fondamentale all'interno dell'attività della giustizia perché come c'è la parte giudicante la parte inquirente c'è la parte fondamentale costituzionale che è quella della difesa e allora io le battaglie saranno tante quello che noi affronteremo e che vorrei che voi insomma partecipaste perché insomma è nell'interesse dell'avvocatura tutta uno di questi è anche quello diciamo informativo cioè informare che ad esempio che esiste la camera di conciliazione per quanto riguarda tutte quelle problematiche tributarie con la cassa forense e una delle nostre battaglie sarà appunto quella di far sì che quando c'è un accordo con la camera di conciliazione nel momento in cui questo debito viene iscritto a ruolo noi vorremmo che la cassa forense intervenisse come enti in positivo di quel debito di quella cartella affinché ci sia uno sgravio di questo debito di questo diciamo tributo non pagato anche perché diciamocelo con franchezza molte cartelle che hanno ricevuto gli avvocati sono state notificate in modo tale che non rientrassero nella rottamazione e questo è un aspetto molto grave finisco con l'ultima visto che parliamo di marketing io credo che non si potrà mai riconoscere e ripristinare quella dignità professionale che l'avvocato merita per tutti i motivi che ho appena esposto se non si derà conto della tutela della libertà economica e senza libertà economica potremmo parlare di marketing e tutto quello che vogliamo ma non riusciremo mai a rendere veramente professionalmente libero l'avvocato perché l'avvocato è ha i rischi di impresa come tutti coloro che detengono la partita IVA però non è un imprenditore non è un professionista imprenditore ma è considerato un intellettuale quindi ha gli svantaggi del rischio di impresa dell'imprenditore con i svantaggi del fatto di essere un intellettuale con tutti i paletti che poi vediamo pure col codice deontologico ma noi con questa commissione per cui è importante riusciremo a ottimizzare anche quei limiti che vengono imposti per il fatto che è un intellettuale finisco dicendo l'ultima battaglia fondamentale in riferimento alla libertà economica che appunto per noi la riconquista dell'eco compenso non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza proprio per ridare quella dignità all'avvocato finisco con una citazione consentitemi la cinematografica giocando un po' con l'acronimo che la forza di difesa per il mondo dell'avvocatura stia con voi e finisco grazie 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 Fabrizio dell'ottimo intervento più un intervento che un indirizzo di saluto che un indirizzo di saluto adesso abbiamo due ore di convegno due ore di convegno suddiviso in sei relatori quindi venti minuti circa al relatore se c'è qualcuno che si deve stringere sarò io per cercare di recuperare eventualmente leggeri sfuramenti quindi mi metto a disposizione siccome sono uno che parla anche tanto e anche troppo a volte per restringere il mio grazie dell'apprezzamento e del per restringermi lascio la parola al dottore Alessandro Galimberti noto giornalista del sole ventiquattro ore che farà da moderatore grazie grazie buongiorno grazie per l'accoglienza per le parole spese anche dall'avvocato Voltaggio poco fa sono molto orgoglioso di essere qua in rappresentanza del gruppo ventiquattro ore di un giornale di una redazione quella di norme e tributi alla quale appartengo da molti anni però devo dire che sono soprattutto incuriosito anche dal coraggio della scelta del tema che viene trattato da questo convegno anche incuriosito dalla scelta e ammirato sotto certi profili dalla scelta del Consiglio di Roma di fare una commissione sul marketing non c'è bisogno che io faccia un intervento ma ve lo dico da osservatore esterno a parte che io nasco come avvocato tanti anni fa e ho usaurito la procura come si chiama la pratica di procuratore legale la chiamavamo all'epoca ma sono molto incuriosito da osservatore esterno a vedere come i termini due termini di cui era vietato parlare se lo sappiamo tutti fino a pochi anni fa ma che sono latenti ormai negli ultimi almeno quindicenni pubblicità accostato al mondo forense e quello dell'impresa intesa come organizzazione di impresa siccome mi sembra di capire dai dialoghi che ho avuto con i relatori prima di questo convegno che andiamo a colpire entrambi questi target e questi obiettivi allora sono davvero molto incuriosito di capire come una professione classica e prestigiosa e un po' in crisi come quella dell'avvocatura si va a confrontare con questa nuova modernità dribblando quei lacci laccioli e paletti di cui ha parlato l'ultimo l'ultimo intervento dell'avvocato Sara Ceno spero di non aver sbagliato il cognome perfetto grazie quindi mi metto tutto orecchie ad ascoltare e per doveri anche di colleganza il primo intervento sarà di Claudia Morelli che è una collega giornalista è stata poi portavoce insomma rappresentante del CNF nella comunicazione del CNF oggi con un cut so che ha preparato anche delle slide soprattutto il titolo Pensati Brand diciamo Pensati Brand è proprio un titolo per quanto ho detto finora secondo me è che abbastanza provocatorio infatti innanzitutto io voglio ringraziare la cassa l'ordine Guerrino in particolare per via personale però entro subito in media res a me tocca diciamo l'ardo compito di rompere il ghiaccio e di traghettare voi avvocati in questo mondo meraviglioso che è il management ecco io prima di parlare di marketing parlerei di management di noi stessi e dello studio legale e perché quindi Pensati Brand gli avvocati e il mercato è sempre una mission impossible perché ci sono molti luoghi comuni da sfatare alcune lacune conoscitive delle materie che informano il management e ancora la capacità di discernere tra il buon marketing il cattivo marketing la buona comunicazione la cattiva comunicazione quindi fare di tutt'erba un fascio a fronte di doverosi obblighi ideontologici che tutti i professionisti anche i giornalisti devono osservare forse è riduttivo quindi io utilizzerò quello che diciamo i marketer chiamano toy of voice un po' provocatorio ma anche un po' leggero perché è venerdì abbiamo caldo e vogliamo anche come dire imparare divertendoci ok quindi mission impossible allora perché è importante per Sancto brand perché noi siamo a questa situazione ancora oggi il biglietto da visita di quasi tutti voi avvocati è questo ma questo biglietto da visita in un sistema di mercato in cui noi operiamo come intellettuali significa presentarsi come commodity cioè fungibili da dove trago gli elementi per capire se quell'avvocato ha le competenze che mi servono dove trago da questo biglietto da visita gli argomenti per comprendere cosa posso chiedergli dove trago da questo biglietto da visita gli elementi per capire che tipo di relazione l'avvocato potrà instaurare come cliente ho bisogno quindi di definirmi come avvocato brand devo arrivare da una situazione del genere a una situazione in cui io come avvocato sia distinguibile ma non diciamo in male ma magari in bene cioè uscire dalla folla per le capacità che ho di competenza innanzitutto di correttezza in secondo luogo e di capacità di relazione col mondo circostante i pain points di oggi qui ci sarebbe da parlare tre ore e non possiamo però abbiamo quattro macro temi che io ho riorganizzato velocemente la digital transformation allora io ancora sento parlare di digital revolution rivoluzione digitale ebbene no la riproduzione digitale è già c'è stata adesso siamo in una fase di trasformazione in cui tutti siamo costretti a integrare le nuove tecnologie allora che cosa significa da una parte significa come professionisti io lo sento come un dovere deontologico ho bisogno di aggiornarmi perché devo saper integrare bene rispetto ai miei obblighi deontologici l'opportunità che le nuove tecnologie mi danno il secondo aspetto per me è molto importante riguarda la dimensione on life ne parlavamo prima dell'evento che cosa significa anche in termini di marketing e di comunicazione se io continuo a pensarmi persona fisica nel mondo reale e poi un avatar che opera sui social psicologicamente libero e scevero dai dettami deontologici del mio ordine io sto facendo una gran cavolata perché la mia dimensione è on life e questo non lo dico io lo dice un filosofo delle nuove tecnologie Luciano Floridi che è docente a Oxford e che è professore all'università di Bologna che insegna etica delle nuove tecnologie la nostra dimensione è on life ha scritto un manifesto che io vi invito a leggere potete digitare su google lo trovate e capite che cosa significa vivere in una dimensione digitale quindi il mio invito è non separate la percezione di voi tra l'essere fisico e la vostra presenza sul social in modo da portare sul social la vostra competenza il vostro pensiero intellettuale e anche la vostra responsabilità sociale il posizionamento digitale richiama temi di marketing poi li affronterà anche Crescenzo il collega che ha un'agenzia i mercati sono conversazioni noi siamo ancora legati a una concezione del marketing degli anni 90 le 4P la vendita ebbene neanche i brand commerciali si occupano più di questo marketing perché abbiamo capito che proprio a causa della trasformazione digitale e proprio a causa del fatto che non c'è più cioè che c'è disintermediazione tra me e il brand il mio rapporto con il cliente che non è più cliente perché io lo trovo sul social e non lo so se acquista me o no è relazione è conversazione quindi le nuove competenze digitali le soft skills ora The Future of the Job del World Economic Forum ci dice che tra le 4-5 competenze per cui si troverà il lavoro nei prossimi anni ovviamente questo riguarda i giovani ma noi finché siamo sul mercato dobbiamo un po' diciamo rincorrere i professionisti più giovani attengono proprio a quelle che sono dette soft skills ma cosa sono? Il pensiero creativo il pensiero proattivo l'adattabilità l'affidabilità le capacità di relazioni e anche la social influence la capacità di impatto di agire con la propria competenza nel proprio circostante magari per provocare dei mutamenti anche in positivo la professione l'hanno già diciamo evocato i problemi della professione la crisi economica la crisi di iscrizione però io vi voglio dire una cosa e questo è un consiglio che vi do l'avvocato finora ha vissuto la sua professione nella fase patologica tendenzialmente che aveva il punto di riferimento nel tribunale ora poiché siamo nella digital transformation la figura dell'avvocato che guardate vi posso garantire non è destinata ad essere soppiantata da nessuna intelligenza artificiale quindi non credete a chi vi dice queste cose ha il compito di anticipare i bisogni perché tutta la legislazione digitale sta chiedendo agli avvocati di diventare consulenti di legalità in una fase antecedente alla patologia ma non è evitiamo le cause e allora non troveremo lavoro perché la patologia ci sarà ci sarà sempre e c'è già tantissima patologia che nasce nel mondo digitale ma si chiede anche all'avvocato di fare una buona consulenza privacy di fare una buona consulenza di marketing alle aziende di fare una buona diciamo assessment sulla tutela dei diritti di scegliere dei fornitori che siano compliant con i principi etichi di intelligenza artificiale e tutto questo chi lo fa se non lo fa un avvocato che ha come dovere costituzionale la difesa dei diritti dei cittadini il problema è chiedersi dove stanno ora i diritti dei cittadini bias del marketing sì io sento ancora molto bias nei confronti del marketing e poi passo alla disclosure ecco questa l'ho realizzata per farvi vedere com'è semplice anche questa è un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale di OpenAI che è integrata ve lo dico in Microsoft quindi chi ha di voi Microsoft sa che nella barra a destra avete una specie di fiocco azzurro in cui c'è la possibilità di attivare OpenAI e chiedere sia di redigere delle mail insomma io a volte chiedo a OpenAI alcune cose per inquadrare un tema per capire che cosa diciamo viene detto il succo di quello che viene tirato fuori da internet e c'è la possibilità anche di creare immagini pensate quanto potente è uno strumento di marketing che crea l'immagine in un secondo visto che siamo in un mondo visual e qui ho voluto rappresentare gli avvocati che stanno in un mondo che si muove che però rimangono un attimo attoniti io vorrei che noi superassimo questa dimensione di diciamo attonicità non so se è corretto è molto plastica quindi io vorrei che voi faceste parte con la vostra competenza con la vostra professione intellettuale di un mondo che si muove disclosure io penso alcune cose marketing e comunicazione perché non è vero che la comunicazione non serve la comunicazione serve serve come marketing e comunicazione non servono per vendere sono attività di management che ci fanno posizionare con consapevolezza di quello che di meglio noi possiamo offrire al mercato non si esaurisce con la pubblicità commerciale noi spesso confondiamo il marketing con la pubblicità avendo il prodotto vi faccio degli esempi anche di oggi studi legali che fanno quello che diceva Paolo scegli me e vincerai tutte le cause in tribunale quegli esempi sono stati già giudicati ideontologicamente scorretti e sono beccati una bella stanzione e forse bisognerebbe che se ne beccassero di più quando si vedono queste pubblicità che di solito peraltro sono delle sponsorizzate in realtà il digital marketing ci permette di sponsorizzare anche un pensiero intellettuale non solo un prodotto cioè se io penso di avere un contenuto proficuo per la collettività come può essere il contenuto di una sentenza che ha cambiato un indirizzo giurisprudenziale a tutela del lavoratore io non dico ho vinto in Cassazione io dirò la Cassazione ha stabilito questo che per te che leggi significa questo e in teoria io potrei anche sponsorizzare quel post c'è una bella differenza tra venite da me che vi faccio vincere tutte le cause e un post che dice la Cassazione vi riconosce questo diritto anche grazie a me ma è la fine la dimensione on life del digitale porta quindi a due conseguenze l'abbiamo detto non possiamo distinguere internet e social richiedono tecniche di marketing per essere on life cioè noi dobbiamo adottare delle tecniche di digital marketing di posizionamento per poter dire la nostra in una dimensione digitale essere presenti partecipare con la nostra comunicazione oggi cercherò di pensarsi brand andare veloce gli strumenti di business development che possono essere utili per capire quanto c'è di management di consapevolezza e di disciplina in questo percorso e poi una comunicazione socialmente responsabile che il mio diciamo è un valore a cui tengo quando svolgo la mia professione di consulente in comunicazione perché personal branding noi parliamo di personal branding dal 1997 25 anni ragazzi tanti e perché? per questo Tom Peters che pubblicò un articolo con questa immagine provocatoria perché questo ricorda noi che siamo che abbiamo una certa età ci ricordiamo che questo era il dash credo era qualcosa che richiamava il prodotto commerciale però diceva in un mercato che sta cambiando in un mercato in cui già internet ha fatto capire che saremo tutti self-employed perché di questo si tratta io ho bisogno di individuare in me quelle caratteristiche che non mi rendono commodity mi rendono brand quindi le mie caratteristiche distintive come avvocato la valorizzazione delle mie esperienze in concreto la capacità di coltivarla questa visibilità di fare in modo che gli altri si ricordino di noi perché altrimenti uno vale l'altro e allora dov'è il mercato? e poi l'esperienza la collaborazione la capacità di essere lui dice visionario questa è un'altra disclosure che voglio fare noi traiamo questi elementi di management poi il professore ce lo dirà dalla cultura americana ma gli americani sappiamo come sono dei bambinoni esagerano tutto però noi possiamo come dire prendere quello che ci interessa e declinarlo portarlo nel nostro ordinamento e dare la forma che noi vogliamo che l'ha detto dobbiamo recepire passivamente le cose quindi visionario significa proattivo dove sono? cosa succede intorno a me? pratico dopo 25 anni Tom Peters ha scritto un altro articolo qualche tempo fa dicendo adesso l'aggiornamento del personal branding è veramente far sapere perché lo fai come lo fai in cosa credi cos'è che attira le persone ma io non devo attirare il cliente viene da me no il cliente può andare da 200.000 avvocati deve venire da me perché io lo tratterò bene nel senso che con me è sicuro che sarò trasparente affidabile chiaro prenderò il giusto gli darò soddisfazione anche quando perde perché ragazzi ricordiamoci che quando noi siamo corretti e intessiamo relazioni trasparenti si possono anche dire dei no perché ci si intende sulle regole di ingaggio altrimenti io non sono fatto per quel cliente ci sta a volte io dico signori io non sono fatta per te perché tu mi chiedi di fare delle cose che io non so fare e poi forse non voglio neanche fare ti indirizzo verso altri colleghi con cui quel collega mi sarà riconoscente il cliente mi sarà riconoscente sono la sua consulente a vita pensarsi brand significa quindi acquisire piena consapevolezza delle proprie qualità pensare con autenticità ai valori creare le relazioni professionali e gestirle in maniera professionale e relazionarsi con la realtà circostante e poi comprendere quali sono le aree di miglioramento che ciascuno di noi ha sempre nella vita professionale soprattutto perché lo fate allora quando sono negli studi legali e parlo anche con i managing partner noi ne parlavamo prima delle varie esperienze in tanti contesti si perde il senso del perché facciamo le cose a noi magari piace fare quello che facciamo piace comunicare piace svolgere la professione forense ma ci fermiamo ogni tanto a capire perché lo facciamo cos'è che ci piace esattamente la nostra professione perché se noi riusciamo a capire esattamente il perché indirizzeremo tutte le nostre attività diciamo di visibilità verso quel perché che significherà anche dire dei no però noi saremo contenti saremo ben posizionati dopo il perché arriva la strategia di personal branding differenziarti costruire credibilità professionale credibilità professionale espandere la rete di contatti noi siamo una prova provata di questa espansione della rete di contatti rafforzare la propria reputazione quindi saper sempre distinguersi con la competenza che portate in un campo e guadagnare advocacy cioè fare in modo che gli altri parlino bene di noi perché tanto marketing quanto volete tanto digital marketing quanto volete ma vale sempre l'esperienza umana quello che i clienti faranno con ciascuno di noi poi arriva la strategia di comunicazione non ne posso parlare vado avanti perché sono quindi cos'è il personal branding non è sempre non riguarda sempre noi in prima battuta io vedo tantissimi post sui social no lieto di essere io non ho scritto lieta di essere stata forse ho sbagliato ma io non ho scritto lieta di essere stata invitata domani alla cassa per dire io parteciperò io ho detto signori per la prima volta al consiglio dell'ordine di roma si parla di marketing di personal branding è un evento che può interessare l'iscrizione si fa qui seguirete questo io parlerò di personal branding perché non è che io non esisto ma esisto in un contesto e grazie a un contesto veniamo a qualche diciamo spunto pratico velocemente vision e mission scrivere un documento strategico su se stessi è la cosa più difficile che ci viene chiesta è stato difficilissimo anche per me quando dopo l'esperienza al consiglio nazionale di forense è iniziata la mia terza vita professionale ci ho messo una vita ci ho messo una vita a dire vabbè Claudia ma adesso tu come ti vuoi posizionare cosa vuoi far sapere di te come ti vuoi muovere come quindi iniziate provate buttate il foglio riprovate chiedendovi cosa sicuramente quali sono le competenze specifiche perché essere avvocato andare in tribunale ora non è una competenza si tratta di practice si tratta di come mi relaziono si tratta di quello che voglio fare i miei valori le mie passioni magari ho una passione per un aspetto particolare del diritto bene scoprite qual è e scrivetelo scrivetelo perché quella sarà un po' la vostra costituzione che impatto spero di creare nel mio ambiente Guerrino mi ha detto io vorrei che i miei colleghi imparassero a farsi pagare il giusto è un cambiamento che Guerrino sta chiedendo e la sua attività la sta improntando per riuscire a ottenere quell'obiettivo allora qual è l'impatto che voi volete creare vincere sempre non è possibile perché non dipende da voi purtroppo lo sappiamo lo so vi sono nel cuore e io vorrei che tutti gli avvocati possano fortissimi per difendere i diritti dei cittadini perché ci credo termamente però dovete capire fino a che punto vi potete spingere ma sicuramente ci potete arrivare questo è uno strumento di management che si chiama cioè di visual thinking quindi quando vi dicono design thinking visual thinking tutti questi sistemi noi li dobbiamo devo dire agli americani che hanno la capacità fantastica di procedimentalizzare le cose questo è un personal branding canvas che voi potete trovare anche su internet in cui con dei post-it visual thinking proprio all'americana si chiama agile management cosa che appunto agli anglosassoni piace tanto aiuta a definirsi cioè a fare quell'analisi psicoanalitica di noi stessi per riuscire a individuare i tratti distintivi infatti adesso non possiamo entrare troppo nel dettaglio però come vedete abbiamo l'identità chi sono le competenze ma cosa faccio esattamente la mia professione come la faccio come ricevo i clienti dove li ricevo come ho organizzato il mio studio dove posso quali sono tutte queste cose ma hanno pensate le ragioni per credere perché sono credibile perché il cliente viene la prima volta e poi torna da me oppure perché quel cliente a cui tenevo non è più tornato ci chiediamo perché se non ce lo chiediamo boh cioè gli investimenti di cui abbiamo il bisogno il posizionamento sul mercato quindi perché mi devono scegliere la comunicazione conseguente ma io lo devo poter dire no? quali sono le mie qualità non è pubblicità è semplicemente rappresentarsi come professionista portando il proprio pensiero intellettuale e poi anche fare l'analisi dei concorrenti organizzare il servizio e poi riordinare i risultati questa è un'altra canvas per dire che siamo pieni di canvas nel management per semplificare il lavoro che aiuta a diciamo analizzare il proprio servizio perché se io penso al servizio come un generatore di vantaggio o un riduttore di difficoltà e in che modo riesco anche a dirlo meglio al cliente quindi sono analisi che mi permettono di avere poi una relazione chiara tramite una buona comunicazione trasparente con il cliente dall'altra parte abbiamo il cliente che mi chiede determinate cose che si aspetta dei vantaggi e che si aspetta una riduzione di difficoltà quindi quando io parlo devo andare anche sul campo del cliente cercare di capire esattamente cosa mi sta chiedendo e tanti colleghi avvocati mi dicono che a volte per il cliente vincere è fondamentale ma non è la ragione per cui ritorna da voi sono altre le ragioni per cui ritorna da voi l'affidabilità la competenza l'affidabilità la fiducia l'analisi SWOT è la mia preferita un dramma un bagno di sangue perché l'analisi SWOT è quella che è destinata a riempire i nostri tra virgolette bug professionali mettiamola così vedo che qualcuno annuisce l'avete già fatto l'avete provato qualche volta vabbè e anche questa è una matrice insomma in che cosa consiste consiste nel riordinare in questa matrice dal punto di vista interno cioè mio professionista che si analizza quali sono i miei punti di forza su che cosa posso contare allora io faccio l'esempio personale che è quello che conosco meglio io sono un avvocato ho studiato ho la laurea in giurisprudenza ho studiato d'avvocato poi ho fatto l'esame da giornalista ho preferito di scrivermi all'albo perché mi piaceva di più scrivere però capisco il diritto quindi come comunicatrice io riesco ad aiutare l'avvocato a esprimere quel concetto che di solito viene posto in lingua le guleia riesco a trasformarlo in un messaggio di valore per chi mi ascolta perché se io parlo ex articolo 320 cpc sfido chiunque a capire qualcosa di quello che sto dicendo che ha valore per chi mi legge attenzione ha valore per l'azienda ha valore per l'amministratore delegato ha valore per l'imprenditore ma l'imprenditore non ci capisce niente di codice di procedura civile glielo dobbiamo spiegare noi i punti di debolezza ma dov'è che non funziona dov'è che non non funziona nel mio caso quando ho iniziato era tutta la comunicazione digitale ebbene che cosa ho fatto mi sono iscritta a un master di comunicazione digitale ho coperto quel bug professionale non mi vergogno a dirlo sono una professionista sul mercato il mercato cambia cambia anch'io invece nella parte bassa della matrice abbiamo i vantaggi e le opportunità esterne cioè quello che il mio contesto mi offre una conoscenza un'opportunità un'occasione una nuova legge quello che ha detto il presidente cf l'apertura vediamo cosa c'è intorno a me dove io posso agire e poi le minacce ma quali sono le mie minacce diciamo identificate se io penso a una concorrenza di 200 mila avvocati dico 200 mila avvocati ma non è così perché magari io mi occupo di una cosa specifica con un aspetto specifico dando un servizio specifico e quindi la mia concorrenza si riduce si riduce tanto e posso anche analizzare il concorrente e capire perché quegli aspetti del concorrente mi convincono no? quindi cercare di capire come posso eventualmente arrivare a quell'obiettivo si dice poi che bisogna non vogliamo la luna bisogna porsi degli obiettivi che gli americani sempre chiamano smart perché devono essere specifici misurabili ambiziosi però raggiungibili con una tempistica definita guardate che un obiettivo smart è anche una telefonata a settimana cioè non è che stiamo parlando poi ovviamente queste sono strategie il professore lo dirà scalabili no? a seconda della dimensione però sono diciamo si può iniziare anche con un piano minimale che potete sostenere cioè che ciascuno di noi può sostenere l'importanza degli stakeholder l'importanza degli stakeholder è quella è riferita sempre alla capacità di centrarsi in un contesto di relazioni anche questo ci deriva diciamo dal personal branding e dal marketing e la capacità anche di capire chi sulla nostra strada io odio usare questi termini diciamo cioè ci può essere utile perché è difficile almeno io non imposto mai le relazioni sull'utilità perché poi alla fine lasciano poco no? ma con chi posso fare un percorso insieme ricercando l'interesse in comune se l'altra persona non ha un interesse in comune con te non ti aiuterà quindi io devo cercare l'interesse in comune qui un po' di self-promotion ma perché semplicemente perché su Avvocato 4.0 quindi avevo già scritto 5 articoli sul legal marketing degli avvocati in cui ci sono step by step le cose principali da sapere quindi il link è questo se cercate insomma lo trovate no vabbè lo trovate quindi comunicazione integrata a quel punto me ne parlerà crescenzo bisogna curare la propria brand identity anche da singolo significa nella dimensione on life significa attivare tutte le leve che fanno di me un professionista riconoscibile in ogni contesto in cui mi muovo ecco perché si parla di biglietto da visita brandizzato cioè mettiamo almeno la practice mettiamo almeno quello che facciamo come attività prevalente cioè rendiamoci distinguibili anche visualmente in una dimensione on life che mi deve riconoscere fisicamente ma anche online sviluppare una presenza online corrente col sito web ma i contenuti e la competenza ne abbiamo parlato contenuti di valore ma insomma poi ne parleranno altri imparare la crisis communication questo secondo me per gli avvocati è fondamentale se voi siete online e se voi siete sui social ma soprattutto guardate voi non siete sui social e il vostro cliente azienda è sui social e gli succede un patatrack come è successo l'altro ieri a We Are Social con quella denuncia di una chat sessista e We Are Social è una delle più grandi agenzie di marketing in Italia che hanno avuto un problema gravissimo di denuncia di sessismo se io devo difendere l'azienda in tribunale io ho bisogno anche che l'azienda gestisca un piano di comunicazione che sia collegato alla strategia difensiva perché se no succede un patatrack perché la nostra vita è on life i brand sono on life e quando noi abbiamo un canale social dobbiamo presidiarlo se no è meglio non averlo il problema è che voi avvocati come avvocati delle aziende dovete conoscere queste cose perché se no succede che si creano patatrack le cose importanti tempo ci serve un po' di tempo non dobbiamo fare tutto subito è un percorso lo stiamo iniziando coerenza e autenticità dite anche quello che non sapete fare e chiedete aiuto io partecipo a una community Fabio Francesco Franco lo sa in cui continuamente ci chiediamo aiuto ci scambiamo informazioni e voi avete potenti community travocati queste community si devono aprire cioè creare più osmosi con il mondo circostante il personal brand cresce con noi la relazione con l'altro è essenziale poi mi è piaciuta tantissimo questa frase di Bershel che è uno storico che dice che bisogna sempre ma questo l'ha scritto nel 1780 1780 bisogna sempre rendersi coevi con il secolo che si vive se io voglio creare un impatto sulla vita che mi circonda anche come professionista io mi devo mettere in sintonia col secolo che vivo perché se no non do l'apporto che è richiesto alla mia professionalità questa è una matrice generale di tutte le azioni che bisogna fare per costruire un successful cioè un brand di successo poi bisogna intendersi e qui a proposito io sto per chiudere lavorando con gli avvocati ho sempre sovracomunicazione ho sempre visto una sovracomunicazione sull'ossessione del successo vedi allora la pubblicità l'avvocato del diavolo pochi anni prima però era uscito un film stupendo stupendo Philadelphia che parlava sì di tutela di diritti LGBT in un ambito legale quindi in un studio legale ma il punto è quello che Tom Hanks dice in aula ma perché lei vuole fare l'avvocato io voglio fare io mi vengono i brividi voglio fare l'avvocato perché ogni tanto può capitare di essere consapevoli di una giustizia che realizza la verità allora io mi sono sempre chiesta perché si è sposato nel contesto comunicativo forense l'avvocato del diavolo e non si è sposato il messaggio di io questo ancora ve lo chiedo quindi la responsabilità sociale finisco come la leggo la leggo che se io mi centro sono consapevole della mia professione mi aggiorno riesco a portare il mio contenuto professionale intellettuale in maniera corretta e so anche discernere i fornitori le agenzie di comunicazione che mi vogliono far fare delle cose che io non posso fare ma devo essere io a deciderlo e come lo decido se non so quindi la consapevolezza ci aiuta ad attuare responsabilità professionale dovunque e dove nella polis cioè questo storico ha scritto su Repubblica un articolo tre giorni fa e parlava di mercato e di connessioni sociali beh ha detto questa cosa nelle agorà signori cioè noi che siamo classicisti dovremmo sapere che nell'agorà che è il fulcro della polis e quindi la nascita della democrazia è lì in realtà nascevano connessioni commerciali il professore annuisce l'agorà era prima di tutto un mercato si creavano connessioni commerciali e c'era bisogno di un connettivo sociale per fare in modo che le connessioni commerciali fossero corrette lì nasce il diritto il decalogo della comunicazione sostenibile è quello a cui tenevo di più però ho preso già troppo tempo poi magari non so nella metterò in chat abbiamo iniziato con Tom Cruise io voglio finire con Tom Cruise che l'altro giorno era a Roma e che dopo 30 anni ragazzi mi si dice mission infinita come è riuscito a trasformarsi in un brand è il mio augurio che faccio a tutti voi grazie allora Claudia domanda vorrei sì no faccio una considerazione a domanda velocissima molto davvero molto molto interessante anche l'esposizione e la fine sei arrivata alla penultima slide al ragionamento finale all'orpello che volevo mettere su questo la tecnologia digitale questo è oggetto di corsi che facciamo anche in varie sedi ha avuto il potere e non è un caso perché è stato preparato da una diciamo così da un lungo lancio culturale di destrutturazione ha avuto il potere di farci credere che entravamo in un mondo diverso e che nulla sarebbe stato più uguale a quello che c'era prima riflettendo sulla tua relazione mi sono tornati 20 anni passati nei tribunali università tribunali magistratura concorsi eccetera e pensavo che non è cambiato niente si è cambiata semplicemente la tecnologia è la dimensione dell'agora perché pensiamo cos'erano i bar dei tribunali quelli di provincia soprattutto ma anche quello di milano pensiamo cos'era l'androne del tribunale il corridoio dove si delle udienze civili null'altro che agora dove si creava si crea la reputazione professionale il branding dell'avvocato adesso perché è fatto di quelle relazioni di quell'immagine di quella proiezione di sé che uno vuole dare all'esterno che è fatto di comportamenti di eleganza di linguaggio di eleganza di abbigliamento di eleganza di benissimo se noi non ci fossimo persi questa gora è morta ma infatti volevo dire questa gora è stata assassinata da tutta una serie di eventi per ultimo il covid però quello che volevo dire esattamente se noi avessimo tenuto questo tipo di principi e li trasferiamo come ci diceva Claudia Morelli ecco siamo a cavallo perché dobbiamo fare le stesse cose con strumenti nuovi e con una gora più nuova e ti faccio solo una domanda di 10 secondi come si coltiva questa il mercato è comunicazione interazione ma quindi vuol dire che un avvocato deve stare a parte la crisis communication deve dedicare del tempo e delle strutture a interloquire col suo pubblico alla fine se costruisce questo perché poi non puoi telegrafica è così ho premesso un'attività di management però in questo guerrino può anche rappresentare un'esperienza d'avvocato io posso rappresentare quella da consulente in comunicazione negli studi legali che seguo noi abbiamo una riunione che cerchiamo di far cadere a settimana fare il punto della situazione perché è un'attività di gestione di un certo tipo di attività io sono invece la prova di come un personal branding può essere anche realizzato personalmente cioè io non ho un'agenzia io sono una consulente quindi sono diciamo una posizione equiparata alla vostra però che posso dire partecipare alle community sicuramente e non vivere le community in maniera passiva cioè solo come riceventi ma partecipare significa partecipare aggiungere un elemento raccontare un'esperienza mettersi in contatto e poi ecco questo sì Alessandro secondo me c'è bisogno essere sui social in maniera un po' più consapevole anche dal punto di vista del marketing cioè io devo capire se su quel social c'è un mio prospect o un mio potenziale cliente ma non è che perché faccio lead cioè faccio la sponsorizzata lo faccio iscrivere alla mia newsletter e poi gli mando le newsletter a bomba dicendo compra il mio servizio compra il mio servizio perché non funziona così nel senso possiamo cioè io dico questo c'è bisogno di una micro organizzazione anche di se stessi dedicare un po' di tempo alla dimensione di crescita della propria professione bene grazie grazie davvero adesso il palco è stretto quindi dobbiamo alternarci il professor Niccolò Costa che è merito dell'Università degli Studi di Roma Torbergata marketing e funzione sociale dell'avvocato oggi prego io già ho partecipato ad una vostra riunione un paio di anni fa Guerrino è stato gentile ha voluto riprendere l'impostazione che avevamo dati due anni fa per verificare alcuni risultati alcuni cambiamenti alcune problematiche e quindi riprendere il tema che è in sintonia con quanto è stato detto precedentemente ma da un punto di vista più sociologico perché io sono un professore di sociologia delle professioni e partire dal tema di due anni fa la crisi delle autorità intermedie professionalizzate tra cui quella dell'avvocato io mi riferisco innanzitutto alla crisi per esempio del formatore che è una figura proletarizzata ha perso sia di reputazione di prestigio sia in termini di reddito quindi status ed economia si incrociano strettamente nella crisi del formatore come docente delle scuole medie ma anche in parte dell'università parlato di proletarizzazione nel senso che non si riconoscono quelle competenze per cui è giusto pagarti per tornare alla tua impostazione ma è valido anche per gli architetti e posso continuare ma vi annoierei si è avuto una polarizzazione in alto attraverso una nuova tecnica che non è quella dell'Archistar ma del team del gruppo della rete che non è una rete virtuale ma è una rete biotica concreta relazionale molto tradizionale che somiglia al gruppo di interesse alla selettività tu sì e tu no quindi la discriminazione non tutti possono scambiare con tutti ma pochi con pochi un modello che ha generato quindi la crisi delle professioni intermedie molte delle quali scivolano verso il basso l'incontro di oggi dovrebbe riprendere come fare affinché una tradizione delle libere professioni dell'avvocato possa riattivarsi acquisendo ascoltando i cambiamenti della società acquisendo nuove competenze quindi rinnovare il ruolo professionale dell'avvocato in funzione di tutto ciò che di nuovo emerge nella società civile intercettarlo fornendo risposte attraverso la realizzazione di servizi riconoscibili come fare affinché si possa accompagnare questo percorso se siamo tutti d'accordo che non è una crisi solo degli avvocati ma è una crisi delle autorità intermedie tra l'individuo e lo Stato cioè una crisi di indebolimento della società civile nel suo complesso per cui voi replicate nel vostro specifico una questione un po' più ampia ma partendo dal vostro specifico vediamo quel poco quel tanto che può essere fatto per rinnovare reskilling le competenze e quindi tentare di conservare una tradizione è stato detto che siamo alla presenza del on life no? in realtà siamo alla presenza di un duplice percorso da un lato che internet e social media non sono più solo uno strumento di comunicazione ma sono una realtà ben definita in cui si vive una nuova città poi con l'intelligenza artificiale questo si accentuerà da quel che ho capito ma contemporaneamente vi è una domanda fortissima che gli attori delle social media tendono a sottovalutare e a non informare è una fortissima domanda di riaggregazione territoriale biotica cioè le persone sono stufe esempio di spaccatura io ho fatto una ricerca recentemente sull'attivista politico locale no? mi sono iscritto come osservazione partecipante a decine di chat su whatsapp sia della destra che della sinistra che del cento che simpatia eccetera ho fatto una scorrettezza da sociologo non è informato che stavo facendo la ricerca sul campo quindi ero di volta in volta no? militante attivista perché la parola militante è vecchia quando il partito politico simulava l'esercito quindi milizia sei fedele adesso la nuova figura che impatta anche con voi quanto contava adesso la nuova figura è quella dell'attivista cioè della persona che si autodefinisce o di destra o di sinistra eccetera e crede di essere impegnato civilmente socialmente culturalmente politicamente eccetera in realtà nella stragrande maggioranza di queste chat siamo alla presenza di gregari di persone conformiste che dicono abbiamo asfaltato nel talk show tizio ah sì che bello e discorsi di questo tipo in cui i legami forti delle appartenenze tradizionali prevagono sui legami post laschi della competenza professionale e dell'individualità a cui accennavi con il personal branding in realtà questi di personal branding non hanno nulla niente no sono dei gregari che rimbalzano da un media all'altro per ricreare una comunità basata sui legami forti attendono l'uomo della provvidenza e la dittatura sia lui che gli altri perché non c'è di individuo e sono a branding guarda un po' il contesto guarda un po' il contesto quindi siamo già alla presenza di un primo problema no voi parlate di reskilling di una professione liberale non dimentichiamo che deve innovare all'interno di una corporazione auguri va bene aspetta auguri io sto dicendo che è sbagliato io sto facendo i migliori auguri e sto qui per dare una mano mi piacciono le missioni mission impossible l'hai detto poco fa io mi sto richiamando non so però lo sto dicendo spero in modo più amichevole forte e piacevole perché siamo ottimisti no e come vedremo più avanti la discussione il marketing collaborativo è probabilmente una delle risposte possibili no a quello che stiamo dicendo quindi lo dico con la fracchezza e la cordialità che anticipa eccetera eccetera ma ovviamente con spirito propositivo e costruttivo perché ad ogni problema bisognerà una soluzione altrimenti apparteniamo a quei killer creativi che io ho incontrato nei focus group sullo sviluppo locale i quali criticano tutti ottengono un grande successo il guai è questo poi alla fine io chiedo ma scusa ma nella sua biografia questo cosa ha mai concluso nella vita beh assolutamente nulla però parla bene perfetto eccoli lì nei social media dell'attivista politico no di cui vi dicevo eh sì anche non sono una minoranza non sono una minoranza non sono una minoranza eh questo voglio dire il contesto le minacce dell'analysis water conferma eh prima del covid faccio un convegno o sull lo sviluppo locale sempre e sul ruolo delle banche ed era presente Patuelli il presidente dell'ABI discutiamo del più e del meno del ruolo del direttore e anche lì emerge la risposta di cui parleremo dopo del team locale no del team locale io portai un esempio di alcuni miei ragazzi dell'università sia di Milano Bicocca perché ho insegnato tanti anni a Milano Bicocca sia 14 che si erano messi in proprio nel web marketing fondamentalmente e avevano presentato dei progetti alle banche con risultati leggermente migliori nel nord d'Italia leggermente ma non più di tanto disastrosi chiaramente nel mezzogiorno d'Italia e allora io con un po' di educazione ci risulta che quando questi ragazzi presentano dei progetti innovativi il direttore di banca eccetera mostra delle difficoltà di apprendimento per cui manca la comunità di apprendimento che quindi non può dar luogo poi ad una comunità di pratica e cioè al credito che sia un po' più flessibile basato sulle competenze quindi e non sugli immobili insomma sui beni eccetera quindi un meccanismo che possa aiutare i giovani che non possono garantire determinate cose ma corre il rischio tipico delle banche italiane poi le banche italiane l'hanno inventato al mondo questo meccanismo della compartecipazione del rischio questa è un'invenzione italiana non è allora dopo mi è stato detto sì le cose stanno veramente così è opportuno che si crei la rete e allora abbiamo sperimentato alcuni casi a Milano non dico le banche banche intesa abbiamo tentato di sperimentare qualcuna di queste cose come che quando arriva il ragazzo si è creato dentro la banca un team in una rete o il gruppo di giovani e quale dice sì io non ci capisco però c'è il mio collega a Torino a Genova a Bologna eccetera che si è specializzato su questo tema per cui utilizziamo la community online in modo proattivo ma soprattutto per rafforzare gli incontri poi biotici per cui facciamo il webinar e poi mi raccomando auto-organizzatevi dal basso ecco l'approccio liberale non posso raggiungere e c'è vi auto-organizzate e vedete come potete sistemare questa situazione in modo tale da innovare insieme quindi la parola è innovazione queste sperimentazioni sono faticose però per le banche popolari per dire hanno pubblicato un mio studio su questo tema sulla riterritorializzazione e si sono impegnate nei piccoli centri con lo spopolamento di mantenere un presidio bancario in modo tale che si possono accompagnare questi processi altri hanno deciso di puntare sul risparmio degli anziani e quindi sull'educazione non dei giovani ma degli anziani che hanno quelli che risparmiano tanto in modo tale da incoraggiare i nuovi meccanismi di vestito ma l'idea emessa è quella del team e della rete che alterna competizione e collaborazione quindi le nuove figure sono quelli del facilitatore dei processi aggregativi e del manager del supporto il facilitatore opera a livello di comunità di apprendimento il manager del supporto opera nell'attivazione tramite anche esercitazioni preliminari dei progetti per passare a livello esecutivo dove tutto ciò può accadere ecco il problema non c'è il toto dov'è? e ci pensate no? o è tutto online no? oppure frammentato di qui l'idea maturata recentemente se poi chi vuole gli mando anche un po' le cose pubblicherò per rubettino un libro un saggio in cui parlo di organizzatore di comunità una nuova figura che vede nell'avvocato una delle delle persone centrale tornando sempre all'esempio delle banche l'avvocato può accompagnare come ci siamo detti impostare qual è il bisogno di finanziamento capace di interpretare le norme e accompagnare i clienti per portarli in banca già se riuscissimo a creare una comunità di apprendimento e di pratica con gli avvocati che contattano i giovani imprenditori è solo un esempio il mio e i dirigenti di banca che come abbiamo visto adesso sono sensibilizzati anche dall'alto perché non è ora e riuscissimo a creare le procedure ecco che introduciamo la cultura liberale e non corporativa perché introduciamo l'innovazione all'interno di associazioni già consolidate e codificate noi gli rompiamo le sfatole perché l'innovazione se è tale rompe sempre degli equilibri l'innovazione stupida è quella che rompe gli equilibri e non fa gli interessi di nessuno perché fa litigare tutti e non serve a niente quindi l'accompagnamento di questi tipici si verifica con la testimonianza dell'avvocato l'avvocato è un testimone di buone pratiche in senso un po' più ampio di come hai detto tu è legato al problem solving del cliente quindi nell'emergenza ma acquisisce il ruolo del consulente ordinario anche e cioè lo si chiama l'avvocato anche per pratiche ordinarie in cui non si è verificato il litigio di confine dici tu hai preso il mio terreno adesso chiamo l'avvocato ti faccio ti faccio il mazzo no tu mi hai fatto questo no eccetera eccetera non più no l'avvocato come un giurista esperto di processi aggregativi relazionali come hai detto nella tua cosa è uno che vende relazioni contatti costituisce in questo caso il futuro degli avvocati medi è quello di mettersi insieme e fare lo studio associato in cui ognuno di loro si aiuta per le specializzazioni sul modello alto no già presente nella vostra professione questo è un modello già presente ma alto no cercare di diffonderlo partendo dal basso vedendo con chi mi alleio io avvocato io vi ho portato l'esempio delle banche no ma perché ho fatto questo studio questa ricettazione mi taccio finendo allora che la prima cosa da fare di quello dell'avvocato è quello che voi ascoltate gli avvocati del vostro sindacato ma non con gli strumenti tradizionali ma ascoltando per capire da loro e quindi testare con una ricerca azione che cosa loro propongono quali sono le loro esigenze per schiodare questa crisi che cosa di poco quel poco che può essere fatto che va a fare perché nella piccola vittoria del marketing associativo tra avvocati che si gioca la strategia più ampia di rinascita della professione del reschile quindi individuare piccole vittorie all'iello di marketing associativo questo è il mio consiglio ovviamente spetta poi a voi avvocati articolarlo meglio ma non imponendo dall'alto linee iniziando a coach hai detto giusto? quindi mi riprendo quello che hai detto pare da coach tirare fuori quello che è già presente perché noi pensiamo di voler educare gli altri perché siamo più intelligenti più smart non nel senso della tua cosa ma nel senso stupido del tema presuntuosi che possiamo indirizzare gli altri perché abbiamo capito ma siamo sicuri che abbiamo capito? la mia risposta è no il modello coaching quindi che tu hai proposto è asseccatissimo ma occorre adesso praticarlo grazie grazie professor Costa mi ha colpito molte cose di quelle che ha detto in particolare uno su uno si è fissata la mia attenzione il modello di riterrorizzazione cioè delle piccole comunità quello delle banche popolari e pensavo che comunità che hanno lo vediamo anche adesso quando succedono gli eventi catastrofici hanno dei problemi ormai di connessione e di voglio dire dello stare insieme talmente gravi io pensavo come un avvocato inteso come pluralità un pool di avvocati inteso come intreccio di competenze multidisciplinari di proprio insolvi potrebbero essere utili anche al rilancio e alla riaggregazione di questi posti per poi non pensare a questi comuni dove in cui vivono solo persone ormai anziane con gravi difficoltà anche nell'ottica del rilancio questa cosa mi ha colpito e pensavo se un team di professionisti non potrebbe essere anche il modello di rilancio del corpo intermedio e dare una centralità a una professione in questo caso degli avvocati ma è nella tradizione italiana non c'è nulla di più moderno dell'antico penso che anche il professor Petillo voleva aggiungere parola intanto io parlerò solo 5 minuti per recuperare i tempi per gli interventi successivi che saranno fantastici come quelli che avete ascoltato e quindi il mio intervento sarà oggetto di un prossimo convegno in cui parleremo di come fare il preventivo materialmente materialmente quindi farò solo un accenno dico soltanto una cosa l'amico professor Nicolo Costa ha parlato di ricercazione rivolgendosi al sindacato degli avvocati a mio avviso la funzione di questa ricercazione su le necessità sui bisogni degli avvocati e va rivolta alla richiesta all'ordine degli avvocati di Roma e quindi bisogna interessare il tesoriere abbiamo la fortuna di averlo qui oggi ma è sempre con noi perché Paolo Voltaggio è sempre con noi quindi interessare il tesoriere proponendogli costi e prospettive di questa ricerca ma anche Cassaforense e se siamo ospiti qui qualcosa vuol dire no? Quindi abbiamo un'interlocuzione talmente forte un'amicizia talmente forte con Cassaforense sin dal consiglio di amministrazione fino ai delegati per poter proporre sperando che venga accolta questa nostra istanza questo nostro urlo questa nostra richiesta per poi poter proseguire diciamo a dare delle risposte e delle soluzioni tu sai che io sono un ottimista inguaribile ci confrontiamo ogni settimana studio su questo tipo sull'esigenza degli avvocati perché la commissione di marketing vorrebbe dare anche delle risposte e voi siete qui per questo cioè dire ai colleghi come fare per ottenere cosa se no la funzione della commissione marketing non deve essere quella autocelebrativa ma semplicemente come tu ieri mi dicevi e mi sollecitavi e mi indicavi di servizio nei confronti dell'avvocatore io questo lo penso seriamente è davvero grazie a dopo grazie professor Gurino adesso tenendo sul palco il dottor Crescenzo Coppola ma anche per alternare la sostenibilità del palco chiederei di rimanere un attimo in attesa e coinvolgere l'avvocato Giulia Facchini avvocati avvocati mercato come battere la crisi se c'è il collegamento ecco da remoto io ci sono mi sentite perfetto sentiamo benissimo grazie perfetto chiedere adesso per questa parte seconda parte del panel chiederei a tutti di stare nei 15 18 minuti di intervento grazie avvocato Facchini allora innanzitutto due parole su di me per dirvi che io credo di essere l'unica tra i relatori e non essere una professionista del marketing né una docente universitaria io sono un semplice avvocato come voi che ci state ascoltando sono una che porta i piedi in tribunale mi occupo esclusivamente diritto di famiglia il che significa per chi fa questo mestiere che io non ho un plafond di clienti su cui fare conto ma ogni fine anno celebro di solito celebro l'andamento dell'anno e ogni inizio anno dico Dio ma verranno di nuovo quei clienti che fanno quel fatturato sono credo da oggi pomeriggio che ci sarà il direttivo nazionale di cammino formalmente responsabile del dipartimento di marketing di movimento forense che come voi sapete è un'associazione che in questo momento storico si sta dando molto da fare e quindi tutto questo per dirvi che spero che non cambi la musica ma sicuramente cambierà il tono perché non essendo un'esperta ma solo un'appassionata di marketing che si deve porre il problema di come far arrivare i clienti diciamo che sarò meno aulica detto questo le vedete le slide girare sì le vedete le slide che girano sì 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 bene grazie allora due indicazioni per i rispiratori allora non dobbiamo più sentire la frase abbiamo sempre fatto così direi che i relatori che ci hanno preceduto sono stati chiari su tutto quello che è cambiato quindi abbiamo sempre fatto così per piacere dimentichiamocelo perché è una zavorra anti marketing tremenda alle colleghe poi capirete nel corso dell'intervento perché ricordatevi Alda Merlini dovrei chiedere scusa a me stessa per aver creduto di non essere abbastanza di cosa vi parlerò brevissimamente dove ci collochiamo nel aspettate che devo solo spostare un pezzo del coso se no non vedo niente tra i redditi degli avvocati italiani perché questo è un pugno nello stomaco che però ci aiuta a cambiare un attimo di gender pay gap perché voi sapete credo che lo sappiate tutti che i redditi delle colleghe sono la metà dei redditi dei colleghi torniamo un attimo sul tratto distintivo e parliamo e sono stati già accennati questi argomenti di come la specializzazione barra materia prevalente siano un potentissimo strumento di marketing ci guardiamo con gli occhi del nostro potenziale cliente e vediamo come la specializzazione barra materia prevalente solo pochi cenni impattano sui prezzi dei servizi regali così introduciamo anche la relazione del professore Petillo su come si fa il preventivo Oceano Rosso Oceano Blu non vi parlerò del preventivo sulla matrice di costo orario perché non c'era proprio il tempo materiale di inserire anche questo argomento e adesso tu perché non ti giri allora cosa vogliamo questo cosa guadagnano i cittadini italiani la maggioranza dei cittadini se voi vedete 24, 29, 13, 21 sta sotto 30 mila euro l'anno di lavoratori dipendenti come si classificano capirete perché vi dico queste cose gli impiegati stanno intorno ai 30 mila euro l'anno i quadri intorno ai 50 e rotti i dirigenti sui 100 mila e nell'elenco delle professioni più pagate noi siamo in basso non siamo più vicini ai notai come forse eravamo una volta neanche ai medici e siamo sotto il web marketing manager quindi bene per quelli che si occupano di questo argomento e di altre professioni come si declina il nostro reddito io io sono un appassionata lettrice e studiatrice dei rapporti scienzi sull'avvocatura immagino che comunque di questi temi tutti quelli che ci ascoltano sappiano però quello che mi fa male perché io so il valore anche economico della nostra professione è che sopra i 50 mila euro l'anno abbiamo soltanto di reddito anno abbiamo soltanto il 17% dell'avvocatura di cui il 10% si colloca tra i 50 e i 100 mila e i 100 mila euro oltre i 100 mila euro quindi con un reddito da dirigente ecco perché vi ho fatto vedere quella tabella soltanto il 7% questa cosa non va bene Cassa lo sa e io aiuto Cassa perché penso che più gli avvocati guadagnano e più la mia pensione a cui sono più prossima di molti di voi che ascoltate sarà pagata guardando la declinazione questi sono tutti i rapporti censi dell'avvocatura noi vediamo che l'avvocatura è una professione per vecchi non è un paese per vecchi perché il salto un po' più di salto ce l'abbiamo dopo i 49 anni dove si passa da un reddito medio di 39 mila euro a un reddito di 49 mila allora questa io dico sempre se fossimo una società avremmo già portato i libri in tribunale questo è rapporto censis 2020 reddito medio rivalutato dell'anno 2006 e 2006 non dico un numero a caso 59 mila 520 reddito medio rivalutato del 2021 37 mila è vero che quest'anno è migliorato perché il reddito medio degli avvocati è arrivato a 42 mila io spero che le slide si vedano bene perché i numeri sono da vedere ma è anche vero che un po' come dire questa slide trassa fa come fanno i consulenti finanziari mi fa vedere l'evoluzione 2011 2021 perché se io invece torno all'evoluzione dal 2006 al 2020 la situazione è diversa perché il 2006 2006 è Bersani ma Bersani dobbiamo smettere di crocifiggerlo perché siamo noi che non abbiamo capito che cosa voleva produrre Bersani noi abbiamo noi io sono una di quelle che con Bersani ha alzato i prezzi ma non ne approfondiamo qua che cosa ha fatto l'avvocatura dopo la Bersani ha combattuto sulla diminuzione del prezzo e questi sono i risultati la declinazione del reddito per genere è uno dei miei cruci perché io non allora è ovvio che le donne avvocato sono altrettanto capaci e formate dei colleghi anzi forse di più perché se guardiamo i risultati universitari le donne eccellono allora qualcuno mi deve spiegare perché invece il nostro reddito è sempre la metà a qualunque fascia di età di quello dei colleghi tranne che nella fascia di oltre 74 anni dove però credo sopperisca la natura nel senso che evidentemente chi di noi donne avvocato riesce ancora a lavorare a raddoppi al reddito degli uomini che o si sono stufati prima o purtroppo sono morti perché le donne guadagnano meno degli uomini perché queste sono tutte domande il marketing forse non l'abbiamo detto è lo studio del mercato allora che cosa succede intorno a noi prima di capire cosa dobbiamo fare perché le donne guadagnano meno degli uomini va bene vediamo questa interessante slide che viene sempre dai rapporti che insis e voi vedete che principali cause impegni familiari inconcegliabilità tempi vita lavoro curiosamente sono gli uomini che ritengono in percentuale maggiore delle donne questo è un problema il 66% degli uomini il 49% delle donne si sentiranno un po' in colpa per scaricare sulla moglie avvocato molte inconvenze forme di discriminazione va bene questo ne vedono più le donne degli uomini il 51% delle donne contro 41% degli uomini ma questa è una risposta importante minor valorizzazione economica del proprio lavoro il 50% delle colleghe riconosce di dare una minor valorizzazione economica al proprio lavoro e questo è secondo me il problema questo tema del gender pay gap non c'è solo nell'avvocatura c'è in tutte le libere professioni dove le donne guadagnano il 45% in meno mentre nel lavoro dipendente il gender pay gap è solo del 4% quindi capite che noi di lavoro soprattutto sulle donne e oltre che sui giovani ne dobbiamo fare tante che cosa ci fa superare questo gender pay gap e qui torniamo agli argomenti di marketing va bene conciliabilità di famiglia e lavoro l'abbiamo già vista però però se andiamo a studiare un pochino che cosa si dice in giro vediamo che questa economista americana ci spiega che le donne faticano a parlare di denaro a farsi pagare perché quando si tra allora si è bloccato il collegamento adesso vediamo se si riesce a ripristinarlo nel giro di poco altrimenti scaliamo al prossimo relatore non so se abbiamo un tecnico in sala da remoto come? ecco ecco abbiamo avuto un'interruzione circa un minuto oh per carità dove dove tornare indietro? la slide precedente ok tutta da capo esattamente qua perfetto eravamo arrivati alla priorità salvare le relazioni esatto ecco perché io ho connessione piena però succedeva anche prima forse non so da lì da casa allora riprendiamo le donne il denaro no questo è un'economista americana le donne faticano a parlare di denaro a farsi pagare perché perché quando si tratta di trattare per sé le donne mollano con perdite in retribuzione in carriera la priorità delle donne è salvare le relazioni che per noi sono il bene assoluto colleghe che mi state ascoltando se ci pensate così però possiamo migliorare ecco dobbiamo migliorare e non è l'unica adesso io non ho fatto uno studio specifico sul tema perché ripeto sono una collega non sono un professore universitario però imparare ad avere più fiducia in noi stessi riformare la psiche femminile non solo nel mercato del lavoro perché noi sottostimiamo sistematicamente le nostre capacità ma l'ultima frase della slide dice essere sicuri di sé anche quando questo significa avere un'idea spropositata delle proprie capacità è ciò che il mercato richiede e qui siamo nel marketing cioè valorizzare nella nostra comunicazione nell'individuazione del nostro tratto distintivo quindi riprendo tutti i concetti della bravissima Claudia Morelli che mi è maestra da sempre e sono perfino emozionata a stare sul palco con lei ecco rivalorizzare dare valore comunicare comunicare il proprio valore non stare sempre un passo indietro ma io non sono capace no tu sei più brava degli altri e se no comunque comincia a dire che lo sai poi lo diventi un'altra indicazione interessante secondo dati della Hewlett Packard sul comportamento dei dipendenti le donne fanno domanda per una posizione soltanto quando possiedono il 100% di requisite e gli uomini quando hanno nel 50% per cui colleghe per favore forza il denaro non è una cosa cattiva noi non siamo abituati a definirci per fatturato o per stipendio cosa che mi perdoneranno gli uomini presenti gli uomini fanno molto di più non siamo abituati ma se noi pensiamo che quello che fatturiamo ha un significato può rappresentare la libertà l'autonomia l'indipendenza la possibilità di aiutare gli altri dare maggior sicurezza della nostra famiglia allora smettiamo di avere questo timore di parlare di denaro queste cose le dico come dire con enfasi perché io ho di corsi su come fare il prezzo sulla matrice di costo orario marketing in genere anche con il tema del preventivo ne ho fatti a bizzeffe ne ho fatti di presenza e quindi vedevo le espressioni delle colleghe e dei colleghi mentre parlavo e lo so che questa è una difficoltà delle donne di questo ci sono resi conto anche le banche c'è questa ricerca dell'università cattolica con Banca Vidiba che dice che proprio le donne hanno fanno fatica sia a guadagnare sia a gestire il denaro quindi è un tema quindi smettiamo di pensare che sia solo il carico familiare a renderci così più vulnerabili sotto il profilo del reddito c'è anche altro e ha a che fare con la nostra autostima autopromozione quindi forza diamo più valore a ciò che facciamo e quindi torniamo un attimo all'elemento di differenziazione perché questo è il punto centrale del marketing cioè io in cosa sono diversa dagli altri colleghi e quindi perché il cliente dovrebbe scegliere me anziché un altro che cosa io gli offro di diverso questa slide mi piace tantissimo non so se voi la vedete bene anche da remoto c'è un camioncino sopra c'è scritto pittore fabbro idraulico muratore giardiniere falegname climaturista elettricista servizio di franschinaggio trasporto apertura porte personal trainer e maestro di ballo ok ma nella testa del del cliente una sola posizione possiamo guadagnare una non 23 e quindi il faccio tutto io parlo ai generalisti ci fa somigliare al signore del furgone siccome sappiamo far tutto vuol dire che lo sappiamo fare male e quindi costiamo poco e quindi costiamo poco facciamo tutto non siamo esperti di niente e quindi ci chiamano perché costiamo poco come questo signore del camioncino questo è molto importante adesso quando vedremo oceano rosso oceano blu facciamo un esempio irriverente ma pratico bottiglie di acqua minerale normale mercato di massa indifferenziato senza valore aggiunto ma questa marca di acqua di acqua che sempre acqua è H2O sempre acqua è magari ha qualche proprietà particolare ma voglio dire sempre acqua è ha creato con questa packaging un mercato di nicchia differenziato e con valore aggiunto quindi l'acqua VOS costerà più cara di tutte le altre attenzione che questo è un concetto importantissimo d'altra parte queste sono due frasi storiche da scolpirsi Guy Kawasaki uno dei dipendenti dell'Apple Computer si ha creato Macintosh o sei differente o sei economico ecco perché il tema della differenziazione che ci ha introdotto Claudio Morelli è fondamentale o sei differenzia o sei economico e Jack Truth se cerchi di essere qualcosa per tutti finirai per non essere niente non abbiate paura di questo perché l'abbiamo visto individuare il nostro valore vuol dire passare attraverso questi passaggi ma gli ha ci fatti Claudio Morelli meglio di me e allora specializzazione quando io parlo di specializzazione ne parlo in due accezioni la specializzazione del regolamento quella per cui stiamo lavorando prima o poi avremo il titolo che ci consentirà di essere individuati dai nostri clienti sull'albo per specifica competenza ma anche più semplicemente la materia prevalente che deve essere indicata secondo quei criteri di verità eccetera che ci hanno detto nell'introduzione ma se noi guardiamo il primo rapporto censi sull'avvocatura del 2015 mi piacerebbe che la cassa questa domanda la rifacesse nel prossimo quali sono gli avvocati che offrono servizi professionali specifici pochissimi 12% al nord e 9% al sud la stragrande maggioranza offre o sembra offrire servizi indifferenziati e generalisti quindi o non ha una specializzazione una materia prevalente o non la comunica ma il risultato devastante è lo stesso perché questo impatta sul prezzo il nostro cliente vuole valore aggiunto le attività ripetitive standardizzate quelle che Claudia ha chiamato commodities la commodities è trovare il sapone lo shampoo in albergo cioè non è che lo paghiamo lo diamo per scontato che ci sia almeno dal tre stelle in su ecco per non essere commodities sappiate che le attività ripetitivo standardizzate non sono percepite come attività legali di valore saranno percepite sono percepite come attività legali che hanno un valore e quindi un prezzo più alto soltanto quelle specialistiche insensolato d'altra parte voglio dire qui riprendo Mario Alberto Catarozzo ma chi di noi va più da un medico generico se non per farsi prescrivere le medicine che gli ha dato lo specialista creando un problema perché noi decidiamo qual è lo specialista che ci serve mentre invece sarebbe fondamentale e qui c'è un ruolo ancora marginale dell'avvocato di fiducia che fosse il medico di base a dire se quel male al ginocchio dipende dalla schiena dal piede o dall'intestino noi ormai stiamo andando tutti sullo specialista e manca qualcuno che fa la regia e probabilmente ci sarà una quota di colleghi magari fiduciari della famiglia dell'azienda che il cui compito sarà però non più quello di svolgere l'attività in proprio ma di ricercare per il loro cliente il miglior specialista da affiancare questa sarà la dinamica se lo dice anche il Nordio che la specializzazione è l'unica via per lanciare la professione forense fatemi fare qualche esempio allora l'avvocato Loffreda non so se prima o poi mi pagherà perché c'è in tutte le miei corsi c'è sempre mi ha molto colpito perché voglio dire chiunque di noi facesse parte dello studio Gianni Origoni sta lì bello attaccato e non si muove invece lo studio Loffreda capisce che c'è un'esigenza specifica e fonda uno studio che si chiama Legal for Transport specializzato in diritto della navigazione dei trasporti nelle sue quattro modalità marittime aviation overland voi capite che sotto sotto specializzazione abbiamo ma capite anche che lo studio Loffreda sicuramente drenerà clienti non solo di Gianni Origoni ma di molti altri suoi competitor di Gianni Origoni perché il cliente che si occupa di trasporto vorrà l'avvocato super specialista e adesso faccio un attimo di pubblicità vi ho detto prima che io sono un avvocato familiarista il mio problema è rimanere sul mercato io credo di essere a Torino dove vivo riconosciuta riconoscibile nota con una certa autorevolezza non mi mancano i clienti ma il problema è che siccome la gente si separa intorno al secondo figlio tra i 35 e i 40 anni e io sono di una generazione per cui non li incontro a nessun evento social sociale queste persone come faccio a rimanere nella testa dei miei ipotetici clienti guardo i bisogni del mercato e vedo che i matrimoni misti sono in aumento esponenziale allora poiché ho la fortuna di parlare inglese francese spagnolo comincio a frequentare le associazioni dei familiaristi internazionali creo una serie di contatti dopodiché dico beh adesso però questo mio saperlo devo ben comunicare a qualcuno perché altrimenti il pubblico non lo sa e fondo con un collega di Roma Davide Piazzoni che è il figlio della collega Maria Giovanna Ruo dell'associazione Cammino che sicuramente voi conoscerete Family Lawyers International Network che vuole essere un hub che consente di fornire informazioni pareri e consulenza viceversa agli stranieri sull'Italia agli italiani sull'estero questo è un regalo l'ho visto ieri sera mentre non giocavo perché non ci gioco con LinkedIn lo leggo con grandissimo interesse capito su questo convegno che si fa a Torino la riforma dello sport e scopro che c'è una riforma della legge poi vedo che ci sono 12 milioni di atleti un milione e mezzo di operatori sportivi eccetera e dico se non facessi l'avvocato familiarista ma domani mattina mi butterei a studiare questa cosa perché lì sì che c'è lavoro allora che cosa voglio dire cosa vuol dire marketing vuol dire che capisco chi sono cosa so fare cosa mi piace o mi piacerebbe fare quali sono le esigenze del mercato tenendo occhi e orecchie bene aperti perché questo è fondamentale vado a inserirmi in un campo che sia in via di sviluppo e comunico questo questa mia capacità questa in realtà l'aveva già un po' fatta Claudia ma mi piace ma quando mi presento partiamo dalle banalità mariorossichiocciola gmail.com o avvocato mariorossi gmail.com non lo dobbiamo più vedere mario chiocciola rossi avvocatilocazioni punto com ha tutto un altro impatto i biglietti da visita stessa storia metteteci un loghino anche perché noi siamo abituati anzi facciamolo al contrario siamo abituati a guardarci con il nostro occhio questo è Porto Censis non so più se no è quello prima non è l'ultimissimo ci guardiamo con il nostro occhio e pensiamo rispetto alle specializzazioni che il rapporto di fiducia con il solidato del cliente continuerà sbagliato non sarà così non sarà e non è già così solo il 17% pensano che la ricerca della rispecializzazione da parte dei clienti permetterà di acquisire nuovi assistiti ma se noi la stessa domanda la guardiamo sempre nello stesso rapporto Censis vista dal dal cliente scopriamo che vedete la freccia in rosso il contenimento dei costi del servizio regale che è quello che ci ha portato a questo disastro economico è uno degli elementi ma ce ne sono molti altri della scelta tempestività e capacità di risolvere le questioni in tempi certi questo è fondamentale dare delle comunicazioni su cosa si trova a fare e con i tempi in cui le si potranno fare al cliente io faccio i cronoprogrammi dico guardi signore gentile signore o signora allora adesso noi procederemo così io faccio questo entro quella data glielo mando lo correggiamo lo facciamo lo depositiamo gli do un cronoprogramma la gente vuole avere tempi certi di quello che succede la reputazione e il prestigio dell'avvocato che certo devono avere il prodotto cioè ci deve essere la capacità ma la reputazione si costruisce oggi online la reputation sta online la capacità di comunicare con semplicità e di aggiornare l'assistituto in ogni fase del procedimento su questo fatemi dire una cosa sono stata consigliere dell'ordine facevo le mediazioni sulle parcelle e 99 su 100 il problema della mancato pagamento o saldo della parcella derivava da cattiva comunicazione tra l'avvocato e la parte ma viva Dio ma spieghiamoli respiriamo diciamo al cliente ho fatto un respiro per te lui è contento e poi ci paga quindi vederci con l'occhio del cliente perché noi offriamo professionalità e conoscenza ma il cliente non vuole né professionalità né conoscenza vuole soluzioni e risultati anche qui si potrebbe fare un corso due ultime parole l'oceano rosso e l'oceano blu tutto questo che abbiamo detto fino adesso il generalista l'avvocato generalista viene percepito come una commodity senza valore cioè siccome quella roba lì un decreto ingiuntivo lo sanno fare penso tutti gli avvocati allora io vado da quello che mi costa meno ed ecco lì la guerra del prezzo ma è questo l'oceano rosso l'oceano rosso nel marketing è il luogo dove si combatte sul prezzo perché un mercato indifferenziato affollato magari anche un po' scorretto dove non si apprezza il valore ma c'è un altro mercato dove andare a competere dell'oceano blu l'oceano blu che è un mercato dove molto meno affollato si apprezza e si ricerca il valore la differenziazione quello che io so fare meglio di un altro e questo è importante e quindi è un mercato che non si gioca sul prezzo e questo è fondamentale sarebbe stato bello farvi passare all'azione passare all'azione è un piccolo corso banale basico su che cosa fanno Ippolito Azecca Garbugli e Maria Rosa chi me lo ha fatto fare nei nomi nell'età sono a caso rappresentano l'avvocatura perché come vedete Ippolito Azecca Garbugli è più d'età mentre Maria Rosa chi me lo ha fatto fare più giovane cosa avrebbero fatto cosa fanno ma se vi sono piaciuta fermo restando che io devo fare il fatturato facendo l'avvocato familiarista ma se mi rivolete che cosa fanno Ippolito Azecca Garbugli e Maria Rosa chi me lo ha fatto fare ve lo racconto volentieri visto che siamo se le mie slide finiscono immediatamente sul mio pagina LinkedIn oltre che sul mio sito ma se vi sono piaciute dite qualche cosa così apriamo un dibattito grazie no grazie all'avvocato Giulio Facchini molto chiari gli esempi mi sembra che siamo andati anche abbiamo spostato anche più avanti la questione del marketing nella relazione diretta con il cliente per ottenere poi quello che è lo scopo di ogni lavoro essere remunerato in modo corretto facciamo un brevissimo intermezzo perché è arrivato un consigliere d'amministrazione Giancarlo Renzetti della Cassa che è anche che è anche un tributo ai padroni di casa va bene vi ringrazio ringrazio per l'attenzione ho seguito solo gli ultimi passaggi della relatrice ma mi pare che un dato sia chiaro se non c'è un buon reddito non ci sarà neanche una buona previdenza i due le due voci viaggiano insieme non ci sono alternative e quindi tutto ciò che può alzare il reddito degli avvocati ampliare quelle che sono le competenze che noi nel corso degli anni siamo aumentati di numero e abbiamo diminuito le competenze io ricordo sempre che da praticante mi occupavo di piccole sessioni societarie da avvocato cassazionista non le posso più fare eppure forse ne saprei qualcosa di più oggi rispetto a quando ho iniziato mi ricordo quando si parlò di passare agli avvocati la possibilità di cedere immobili fino a 100.000 euro ma era subito telefonato un cliente io tutto contento giorno dopo invece decadde la norma adesso lo dico scherzando ma non troppo noi abbiamo un problema di come tutta l'Italia tutti i paesi europei di demografia in futuro non solo saremo di meno come italiani e questo può essere un problema relativo ma sicuramente come amministratore di Cassa mi poggo il problema che saremo meno avvocati e meno iscritti a giurisprudenza non mi lamento più di tanto perché forse la crescita ripeto è stata esponenziale e a questa crescita esponenziale non è aumentato né un ruolo politico dell'avvocatura né un ruolo economico il PIL dell'avvocatura fortunatamente è cresciuto complessivamente ma le fette sono diventate sempre più piccole abbiamo lo stesso spaccato della società italiana un numero sempre più e di tutte le società avanzate un numero sempre più ristretto di professionisti fattura un importo rilevante quelli sopra 500 mila euro sono 1600 anche a chi paga l'IR per finitalia non è un nucleo elevatissimo anzi forse lo sapete meglio di me se non vi siamo occupati della materia però ecco noi mentre poi il sistema pantalone oggi c'è un libro che sconsiglio la lettura se non volete incubi ma è il Titanic delle pensioni che è dedicato all'Inps chiunque pensi che la salvezza dell'avvocatura è l'Inps si legga quel libro e ne riparliamo cioè loro hanno oggi senza di liquidità assenza di investimenti problema che noi affronteremo nel 2048 se non abbiamo un'inversione ecco mi auguro che iniziative e spazi ecco perché poi io sul marketing legale dico solo poi mi massacrerà la relatrice di prima ma è sicuramente utile ma va speso per il singolo avvocato ma dobbiamo trovare il modo di spenderlo come categoria ecco questo è il passaggio importante perché altrimenti diciamo noi come ente potremmo essere meglio interessati perché se la torta rimane uguale poi se si suddivide in fette più piccole cambia poco se non invece riusciamo anche attraverso questi strumenti ad allargare la torta ad ampliarla non potrà che farci del bene vi ho rubato fin troppo tempo vi ringrazio grazie 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 per la visita è giusto che ha fatto riferimento sostanzialmente al PIL è stato fatto anche nelle slide precedenti però ricordiamo che lo scenario in cui siamo inseriti è quello secondo cui il PIL italiano non è mai tornato ai livelli del 2008 quindi il paese è più povero non ha mai recuperato quel gap è aumentato il numero dei professionisti in tante professioni anche nella nostra che ha già subito il default della cassa e a fronte di una ricchezza che è diminuita quindi siamo non solo sul mercato ma forse anche nella giungla siamo entrati negli ultimi 15 anni anche per questo motivo motivo di impoverimento e di ridistribuzione globale della ricchezza purtroppo non siamo più dalla parte di quelli che vanno su ma stiamo cedendo parte della nostra ricchezza da altre parti del mondo molto più veloce molto più aggressive adesso richiamo il dottor Crescenzo Coppola che è anticipo l'amico Crescenzo Coppola perché avrà un intervento molto più corposo molto più corposo e rinuncio parzialmente al tempo dei 20 minuti perché abbiamo sforato un pochino i tempi mancano 30 minuti alla fine del convegno qualcosa ci verrà concesso però non vogliamo andare molto oltre avevo preparato un intervento sul preventivo sul preventivo vi darò solo dei punti degli spunti di riflessione per il prossimo convegno che intitoleremo sul preventivo perché come dice giustamente il professor Nicolò Costa e il nostro gruppo la nostra chat la nostra commissione devono poi alla fine dare un risultato agli avvocati quindi hanno bisogno di divenire un servizio per l'avvocatura se no la commissione non ha scopo e sarebbe solo autoreferenziale per chi si occupa della commissione stessa ovvero per il presidente Paolo Onesta per il tesoriere Paolo Voltaggio e per il sottoscritto quindi non deve essere autoreferenziale ma dare un servizio io in questo ho un controllo serratissimo da parte degli amici Nicolò Costa e Claudia Morelli i quali me le dicono mi stimolano mi riprendono e mi portano sulla strada giusta io vengo da competenze importanti nel marketing in quanto Claudia diceva ha fatto tre vite io ne ho fatte solo due nella prima vita ho fatto il coordinatore nazionale del marketing responsabile del marketing di un grosso gruppo multinazionale quando sono arrivato all'età di 45 anni 20 anni fa e ho detto basta ero veramente esaurito ero eccessivamente dimagrito prendevo un aereo scendevo da un aereo ne salivo su un altro e andavo in Giappone ogni 15 giorni a confrontarmi con la casa madre a Tokyo e quindi non ne potevo più ho detto devo fare il titolo commesso nel cassetto lo devo tirare fuori e basta marketing non ne posso più farò solo ed esclusivamente all'avvocato mi piace scrivere mi piace difendere voglio indossare la toga voglio fare un'altra vita un altro mestiere mai avrei pensato di essere tirato per la giacchetta nel 2016 da alcuni amici che presidenti di associazioni mi hanno detto guarda Rino dice tu che te ne intendi di marketing e comunque l'hai coltivato a livello obbistico e comunque recentemente abbiamo bisogno che tu scenda in campo per cominciare a parlare del problema del problema che inizia ad affliggere stiamo parlando del 2016 inizia ad affliggere l'avvocatura in termini di redditi semplicemente in termini di redditi i redditi stanno calando mi dissero guarda che prima i colleghi affittavano uno studio adesso affittano una stanza oggi diremmo affittano i tempi in una stanza quindi e questo è il problema come gli autorevolissimi redditori che mi hanno preceduto hanno detto ma soprattutto come ha detto Giancarlo Renzetti che ha i dati cassa e la collega che mi ha preceduto che ha dato uno spaccato esattamente chiaro ed esaustivo di quella che è la situazione nella nostra professione allora come commissione marketing dobbiamo iniziare a dare un servizio e il servizio inizieremo a darlo l'abbiamo iniziata a dare oggi l'abbiamo iniziata a dare con la riunione che abbiamo fatto nella commissione marketing all'ordine il 28 avremo un'altra riunione sempre in sala cicerone all'ordine della commissione marketing metteremo giù pancia a terra ci metteremo a lavorare per iniziare ad informare e ad informarvi su come vi dovrete comportare nei confronti dei vostri clienti come dovrete fare in modo lecito legale deontologico ad acquisire nuova clientela questo si può fare abbiamo al nostro fianco degli esperti del livello che avete visto e del livello che vedrete quindi quindi mettiamoci a lavorare insieme il fatto che molti siano interessati alla vicenda è dimostrato dalla dei 188 colleghi che sono nella chat marketing e chi non è ancora iscritto può iscriversi vi do il numero 333 65 78044 da coloro che sono iscritti nella commissione che partecipano alla commissione di marketing dell'ordine degli avvocati di Roma da coloro che si sono iscritti a questo convegno che sono circa 200 e dai partecipanti in presenza che sono circa 60 se diciamo la materia non interessasse chiaramente non ci sarebbe questa partecipazione io prevedo che la partecipazione aumenterà ancora il tema che mi ero assegnato era quello appunto del preventivo quando iniziai a parlare del preventivo nel 2017 quando uscì la legge sul preventivo obbligatorio parlai era pre-covid in una sala con 500 persone c'era gente in piedi e quando iniziai a dire le mie idee sentì proprio avvertì un gelo incredibile cioè io pensavo che tutti fossero contenti di dover fare il preventivo perché ero abituato nel precedente mestiere che tu convincevi la persona che avevi davanti a te ad affidarsi a te quindi facevi un contratto quindi concordavi dettagliatamente le tue prestazioni e le sue controprestazioni in termini economici se non se non aveva soldi facevi un piano di rateazione ed eri contento anche perché venendo dal marketing puro i miei maestri americani mi avevano insegnato che tu il cliente lo devi prendere nel momento di massimo bisogno perché poi la scala del bisogno gradualmente decala e quindi dentro di me ignorantemente pensavo affrontandomi con l'avvocatura dico immaginati se tu devi andare a prendere le cause durano 5-6 anni se tu devi andargli a chiedere soldi dopo 4 anni quello nemmeno ti risponderà al telefono quindi è meglio concordare subito tariffe concordare subito la tua prestazione concordare subito cosa fare quando farlo e come farlo ripeto trovai una sala gelata fui costretto a deviare il discorso perché non mi lanciassero i pomodori su un argomento sul bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto che si usa sempre quando te la devi cavare tu la puoi vedere sempre come bicchiere mezzo pieno oppure come bicchiere mezzo vuoto e dissi che la norma di fatto era un bicchiere mezzo pieno e un bicchiere mezzo vuoto nel bicchiere mezzo pieno mettevo quelle che erano e sono ancora più radicalmente le mie convinzioni cioè quelle di portare a casa subito il cliente impegnandolo non solo con un mandato che voi mi insegnate può essere revocato domani mattina bensì anche con un vero e proprio contratto dove io dovevo scrivere diciamo profittevole scrivere che se mi avesse revocato il mandato avrebbe comunque pagato quindi era dissuaso a revocare il mandato quindi ritenevo che questo fosse giusto i tempi piano piano mi hanno dato ragione si è cominciato a ragionare in termini di preventivo cioè tanti colleghi tanti amici diciamo hanno seguito il mio consiglio finché a un certo punto il preventivo non è diventato più obbligatorio perché a seguito di due pronunce importanti della Corte di Cassazione che io adesso vi richiamerò voi le troverete nel mio sito ma le potete anche cercare tranquillamente su internet è stato stabilito che infine basta che tu abbia il mandato e che faccia materialmente la prestazione che comunque ti è dovuto il pagamento se non hai pattuito il tuo compenso sono comunque ci sono le tariffe di legge di cui al DM 55 2014 successive modifiche per cui chiaramente non è più necessario il preventivo dopo ciò dopo ciò dopo ciò io sono ancora più convinto che invece sia necessario fare il preventivo e ritengo che il futuro della commissione di marketing debba arrivare all'insegnamento di come sedersi di dove ricevere di come ricevere di come atteggiarsi nei confronti del cliente e di come saper cavalcare il momento il momento di massimo bisogno che è quello in cui gli arriva la citazione che è quello per fare un riferimento alla collega che mi ha preceduto in cui il marito che non ha coraggio di dire alla moglie in faccia che vuole divorziare gli manda la raccomandata che è quello in cui il muro del vicino sta per cadere e quindi temiamo per la nostra proprietà quello è il momento in cui noi intercettiamo il cliente è il momento in cui il cliente ha uno stato di massimo bisogno e nel momento in cui noi dobbiamo essere carichi motivati assolutamente deontologici ma chiari nell'assunzione dell'incarico e regolamentare l'incarico in modo che il cliente venga dissuaso da revocarci il mandato quando un collega che gli gira vicino gli offre di fare il lavoro per 50 100 mila euro di meno quindi l'acquisizione del cliente è determinata a mio avviso dalla contrattualizzazione del cliente senza clausole vessatorie senza impegni eccessivi l'impegno deve essere attuabile proporzionato serio anche perché se no quel cliente noi l'avremmo imbrogliato una volta e lo perderemo in prospettiva quindi sarebbe un male peggiore che il perderlo subito e poi mi riferisco a quanto detto dalla professoressa Morelli prima cioè il rapporto con il cliente tu il cliente non lo devi tenere ed avere per forza se non si stabilisce con il cliente quell'empatia quel rapporto di simpatia che poi è elemento essenziale per il rapporto fiduciario lascialo mandalo a casa mandalo da un collega sapete quante volte io che pratico marketing studio ho due riunioni a settimana con il mio team di marketing solo di marketing forense quante volte chi mi accompagna nelle riunioni ancora non esperto mi guarda mi dice si vede che ha dormito male la notte perché era arrabbiato con quel cliente l'ha mandato via gli ha detto vada da un altro poi io mando via il cliente riunisco il team e dico guardate che è stato accompagnato gentilmente alla porta e gli sono state restituite le sue carte in quanto non si è creata quell'empatia e non si è determinato quel rapporto fiduciario perché il nostro è un rapporto solo fiduciario se il cliente non ha fiducia in noi non crede in noi non può essere nostro cliente i soldi vengono dopo non bisogna considerarlo un bancomat un salvadanaio un potenziale arricchitore per l'acquisto di un lampadario di un mobile della casa in campagna o in città o quant'altro quello che ci deve pagare il mutuo è un rapporto di empatia che si deve determinare con il cliente e deve essere sempre un rapporto fiduciario ora vi indico le sentenze le ordinanze anzi scusate non sentenze adesso vi do i riferimenti ma lì allora questa qui no non sono lì adesso le trovo e ve le do mentre le cerco vi dico delle specializzazioni signori non bastano più le specializzazioni generiche allora io mi occupo di diritto tributario e nel diritto il diritto tributario è composto di tante partiture di tante materie se io ho un problema di diritto tributario internazionale non non me ne occupo io perché io non ho la preparazione una preparazione generale come avvocato ho una preparazione particolare come tributarista ma non ho una specializzazione di diritto tributario internazionale quindi non conosco a fondo le normative fiscali dei paesi con i quali mi devo interfacciale e tutelare il cliente cosa faccio chiamo un collega e amico una rete di amici che hanno le loro skills che hanno le loro competenze in partiture assolutamente specifiche della materia della materia voi avrete visto che nella commissione di tributario ne approfitto perché ce l'ho qui in sala di tributario uno solo ha parlato della rottamazione non è che tutti hanno parlato della rottamazione perché quello in specifico che è l'amico collega Piccarozzi che ha parlato della rottamazione è uno dei massimi esperti in quel tipo di settore la stessa persona se ha un problema il collega in termini catastali un cliente gli chiede sulle riclassazioni catastali e c'è una particolare problematica lo manda da me quindi attenzione non solo specializzazione così come intende il CNF cioè per gruppi di materie o per materia ma qua dobbiamo arrivare come correttissimamente ha detto la collega che mi ha preceduto cioè a specializzazione della specializzazione l'esempio di Gianni Origoni e partners del collega che ne è uscito è perché non tutti in quello studio erano in grado di gestire il diritto marittimo e chiaramente lui era l'esperto ha ritenuto opportuno creare uno studio di nicchia quindi si è brandizzato in maniera chiara riconoscibile inconfutabile e oggi guadagnerà sicuramente il doppio di quanto guadagnava precedentemente pur con meno clienti perché approfondisce quel tipo di attività quindi chiudo qui il mio intervento per non togliere tempo al successivo relatore vi dico di cominciare a studiare la 33 193 del 10 11 2022 è un capolavoro questa ordinanza della Corte di Cassazione studiatela ne parleremo al prossimo convegno nel mio intervento sul preventivo e studiatevi anche la 8863 che peraltro è richiamata e a fondamento della 33 193 la 8863 che viene prima è del 31 marzo 03 del 2021 mettetele a casa e le metterò anche sul mio sito ve le rendo disponibili ma iniziate a studiarle perché a settembre faremo un altro convegno e discuteremo centimetro per centimetro su queste sentenze perché sono sentenze chiave per quanto riguarda i compensi degli avvocati grazie e buon poveriggio grazie 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 e allora andiamo verso la fine con la relazione del dottor Crescenzo Coppo la formazione comunicazione e marketing legale tanto che vengono posizionate le slide adesso ho capito cosa c'entra il preventivo finalmente con il marketing e sul diagramma emotivo del cliente che secondo me vale per molte professioni e non solo quella dell'avvocato per tutte le professioni anche consulenziali ecco mi lo sforzo di stare nei quindici perché dobbiamo recuperare grazie sentite bene buongiorno a tutti sono Crescenzo Coppo la starò in cinque minuti così che recuperiamo tutto fantasticamente e ci vedremo in un'altra occasione magari con un po' più di calma a settembre non in vacanza rimandati a settembre infatti non ci sia compiti per la vacanza esatto ti sta anticipando proverò a condividere lo schermo comunque vediamo se si vedrà qualcosa cercherò di prendere le slide più importanti e cercherò di essere il più chiaro possibile io ho iniziato volevo iniziare il mio intervento con una provocazione sostanza controforma che ne abbiamo parlato veramente in modo ampio anzi faccio i complimenti ai relatori che mi hanno preceduto perché veramente avete toccato almeno il 70% di quello che dovevo dire quindi è una cosa molto buona questa siamo super allineati anche senza esserci confrontati la sostanza non manca a questa categoria quindi siamo super preparati ci sono aggiornamenti continuate a studiare continuamente dobbiamo un attimino impegnarci un po' di più a curare la forma io mi permetto di dire questa cosa perché faccio l'imprenditore da sempre quindi io non ho mai fatto il dipendente io ho un'azienda che è da 17 anni sul mercato che si chiama CF Consulting ed è specializzata proprio in soft skills quindi è specializzata in forma dall'altra parte studi e studi del Carnegie University Harvard Stanford tantissime aziende hanno posizionato questi studi hanno dichiarato che il successo di un'azienda piccola o grande che sia e coinvolgo anche i liberi professionisti è fondata sulle soft skills più del 60-70% del successo di un professionista è su come sa trasmettere comunicare gestire organizzare quella che è la sua hard skills quindi le sue hard skills quindi le abilità primarie oggi come oggi purtroppo non sono la chiave ma non perché non sono importanti perché il nostro cliente finale le dà per scontate sa perfettamente che se andrà da un avvocato questo avvocato sarà preparato come sa perfettamente che se vada al meccanico il meccanico ha le competenze per aggiustargli il motore della macchina vi è mai capitato di entrare da un falegname e dire scusi io dovrei fare un mobile e non so se è il posto giusto vi è mai capitato non credo credo che entriamo direttamente io devo fare un mobile così 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 do per scontato che quello sappia lavorare in legno ed è uguale per ogni categoria di ogni professionista e tocca anche a voi sapere che funziona così per tutti proprio per questo motivo visto che abbiamo già tantissima sostanza e sappiamo anche scendere ai compromessi tra virgolette della forma ci possiamo impegnare su questo punto io vorrei sottolineare quattro punti su come si presenta un preventivo efficace sarebbe cosa buona e giusta iniziare con un'introduzione i preliminari e non mi fate fare battute sono una cosa importante andare diretti al dunque dopo aver capito un'esigenza non è per forza una strategia vincente rompere il ghiaccio con il nostro cliente è una cosa fondamentale quindi questa prima fase possiamo farla durare anche solo i due minuti però iniziare a scaldare l'ambiente dove noi abbiamo di fronte a noi due categorie di persone o i disperati che gli si è creato un problema e vogliono una soluzione o gli ispirati e vogliono costruire qualcosa un progetto e quindi cercano una consulenza e il mondo si divide tra queste due categorie se puntiamo alla specializzazione e do per scontato che punteremo alla specializzazione il 10% del mondo è ispirato il 10% del mondo è disperato l'80% campa c'è prova vive a noi quell'80% ci interessa ma di posizionarlo verso un'ispirazione o verso una disperazione se noi andiamo a specializzarci con determinate informazioni così che possiamo andare online offline on life possiamo andare ovunque sicuramente saremo centrali per poter affrontare determinate situazioni che il nostro cliente ci chiede come dicevano i relatori precedenti soluzioni garanzie vantaggi ed è proprio per questo che dopo una breve introduzione possiamo andare a descrivere quali sono i nostri servizi e quali sono le caratteristiche dei nostri servizi , senza trascurare la grandissima differenza tra i vantaggi e i benefici il vantaggio è ciò che permette di ottenere quello che sto proponendo al mio cliente quindi la naturale conseguenza dei servizi che ho appena raccontato il beneficio è la capacità di collegare questi vantaggi al mio interlocutore e trasformando la presentazione di una cosa senza offesa pseudo noiosa lo faccio dire a voi ma non è una materia divertente trasformando una materia che potrebbe essere un po' complessa da capire un po' nebulosa per il mio cliente finale non troppo empatica non troppo emozionale in una comunicazione empatica perché quando vado a collegare i benefici di quello che sto dicendo calzandoli all'interno della situazione del mio cliente inizio a trasformare la mia comunicazione in efficace e persuasiva in modo tale che il messaggio che vado a trasferire passi completamente tutto questo senza dimenticare poi la capacità di mettere in relazione i tre sistemi della comunicazione i tre livelli della comunicazione sapete perfettamente che abbiamo il linguaggio del verbale quindi il nostro contenuto il paraverbale quello che esce dalla bocca ma non è il contenuto io dico sempre paraverbale ma non lo è perché voglio dare attenzione a questa parte e ultimo ma non per importanza la comunicazione non verbale magari queste slide poi le metto in chat così che tutti quanti le trovate perché sto cercando di riassumere più velocemente dove voglio arrivare che tutto quello che io ho preparato e torno indietro con la mia sostanza ora lo devo comunicare in una modalità empatica altrimenti il mio interlocutore o farà fatica a capirmi o rimarrà distaccato da questa situazione o quando accetterà anche di collaborare insieme a me quindi di darmi mandato poi ogni volta che si andrà avanti nel processo nel crono programma che raccontavano prima ci saranno sempre chiacchierate sempre discussioni sempre di dover riaffrontare determinate cose vi è mai capitata questa cosa che l'ha spiegato una cosa al cliente e poi ve la richiede ma sia nello stesso appuntamento che dopo una settimana che dopo 15 giorni poi dite ma io l'ho detta questa cosa il segreto non è il verbale il segreto è tutto ciò che non è questo mondo qui dobbiamo lavorare su i toni sulle cadenze sullo scaldare la comunicazione e aggiungerei anche che tramite il paraverbale si gestisce la noia e se mi autorizzate prima l'abbiamo definita almeno io l'ho definita una materia che può essere pseudo noiosa difficile da comprendere la maggior parte delle trattative non vanno in porto perché il cliente non capisce e invece di alzare la mano e dire avvocato io non ho capito mi scusi non è la mia materia dice ok ci penso e poi questo ci penso non accadrà mai perché è difficile alzare la mano e dire io non ho capito e quindi tramite il mio giusto verbale posso diventare un po' più potabile chiaro semplice snello un po' meno di latino non l'abbiamo studiato tutti almeno questo è il mio consiglio poi fate voi io non l'ho studiato esatto mi piace utilizzo la parola in latino e la traduco altrimenti i relatori di oggi iniziano a dire agility management leadership speech e non se ne esce vivi e poi veniamo pure multati forse ultimamente verremo chi lo sa questa è registrata quindi divideremo romanaccio va benissimo io sono un fautore del romano ma il segreto sta voglio raccontare la mia preparazione mi sta bene anche nell'introduzione posso mettere i miei titoli a raccontare perché sono uno specializzato però poi devo scendere al livello del mio interlocutore del popolo andando a concludere vorrei sottolineare solamente una cosa che poi magari veramente dobbiamo affrontare in un in dei corsi di formazione specifici dove andiamo a fare delle simulazioni della pratica dove veramente si va a cambiare si va a migliorare in dieci minuti è più veramente per presentarci e conoscerci la distinzione tra il prezzo della vostra consulenza e i costi fissi che ci sono per sostenere un certo tipo di percorso molto spesso io ho notato che fate tutto un purpurì questa cosa è costata un euro ma il cliente non capisce in un preventivo distinguete il vostro tempo e la vostra preparazione e invece quelle che sono i costi i bolli le leggi i timbri tutto quello che non va a voi che però viene rigirato a voi che voi rigirate a chi di dovere specificatelo perché molto spesso non è chiaro e raccontate sempre al cliente e vado a concludere raccontate sempre al cliente quando vi dice sulla vostra consulenza ma è caro raccontate che voi non venite pagati per l'ora di lavoro voi venite pagati per i vostri vent'anni di esperienza che vi hanno portato a fare quella cosa e a risolvere quel problema in un'ora buon lavoro grazie 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 Cacenza Coppo mentre ascoltavo questo con molta molto concentrato questo intervento che mi è piaciuto moltissimo il mio cervello ha fatto un'associazione mentale che adesso vi farà forse sorridere ma che fa capire come versante cliente questo tipo di approccio è sentito ma da sempre fa parte della nostra cultura popolare vediamo se qualcuno viene in mente Gigi Proietti che fa il monologo col fascicolo non posso dirlo che siamo registrati quello è che ovviamente è un grandissimo attore romano che adoro conosco quasi tutto mi è venuto in mente ma perché fa capire come quel tipo di rapporto di soggezione e di incomprensibilità del cliente rispetto al professionista però sottolinea un bisogno che mi sembra molto attuale nonostante questa cac sia abbastanza vecchia mi permetto di aggiungere velocemente che la sudditanza tra fornitore e professionista e cliente è morta per quel motivo di tecnologie ricordate come ci trattavano i medici e guardate come ci trattano oggi grazie del suo impegno relazionale e quant'altro quindi prego grazie a tutti grazie a tutti innanzitutto volevo ringraziare anche se è andato via il nostro presidente Paolo Netta che ha creduto molto nel progetto del marketing legale e non posso non ringraziare anche il collega e padre Guerrino Petillo che si che si dedica incessantemente al a questo progetto di marketing e alla e alla commissione e all'ordine e oggi ho voluto approfondire il tema delle collaborazioni professionali il cosiddetto team legale perché molto spesso nonostante oggi se ne sia parlato tra i colleghi è sconosciuto comunque non è non è praticato quando ognuno di noi si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza aveva ben chiari degli obiettivi almeno quasi tutti o comunque quasi tutti quelli che poi sono arrivati quindi diventare avvocato accedere a una professione prestigiosa una carriera brillante poi diciamo ce l'ho anche ben remunerata molti fattori che ci hanno portati a quella scelta sono cambiati quindi siamo diventati tantissimi l'istat ci dice che dagli anni dagli anni 80 oggi siamo aumentati del 500% secondo la pressione fiscale è molto forte soprattutto per i colleghi che intendono optare per un'organizzazione tra professionisti quindi STA STP la stessa Cassa Forense ci fornisce dei dati che sono a mio parere allarmanti ci dice che su 237 mila iscritti soltanto un 8% non ha neanche inviato il modello 5 quindi è un reddito pari a zero si presume un buon 25% non supera il reddito anno netto di 10 mila euro e il 17% è tra i 10 e i 20 mila euro quindi capiamo che non c'è più la carriera non c'è più il ricco avvocato che magari al quale magari che era il nostro obiettivo tanti anni fa a livello sindacale la nostra categoria non è dico ancora adeguatamente tutelata e poi è arrivata la cartabbia che inevitabilmente ha creato scompiglio quindi ci troviamo in una situazione in cui molti colleghi hanno si sono cancellati dall'ordine molti altri lo faranno e è necessario cambiare qualcosa e questo è emerso chiaramente dal convegno di oggi innanzitutto non è più sostenibile lo schema clienti lavoro guadagno in cui nel momento in cui si trova il cliente e già questo primo step normalmente non è così facile ci prodighiamo per le loro cause lavoriamo tanto anche mettendo mettendo da parte quella che è la nostra vita privata sacrificando comunque la qualità della nostra vita poi arrivano i successi ma al contempo arrivano anche le tasse le spese cassaforenze e chi più ne ha più ne metta e quindi poi dobbiamo a volte arriviamo a un punto in cui abbiamo fatto il nostro lavoro e il cliente nonostante abbiamo elaborato un preventivo gliel'abbiamo proposto l'ha accettato il cliente non provvede o comunque non lo fa nelle tempistiche che ci siamo dati e quindi da lì poi scaturisce la crisi e tutto quello che ne consegue quindi a mio parere dobbiamo cambiare l'approccio cioè dobbiamo seguire un nuovo schema un nuovo modello di pensare il lavoro ma anche un nuovo modello di pensare a noi stessi cioè di vederci come dice Claudia Morelli nel suo intervento che a mio parere è stato illuminante dobbiamo sentirci brand dobbiamo iniziare e dobbiamo cambiare un approccio sia al nostro lavoro ma anche a noi stessi quindi dobbiamo partire dal brand il nostro brand deve essere riconoscibile conseguentemente deve essere conosciuto e poi è importante deve essere anche ben organizzato per svolgere il lavoro perché noi lanciamo il sasso però poi dobbiamo avere un'organizzazione alla base che ci permetta di sopperire ma anche di dare il giusto valore al nostro tempo perché un altro punto che ritengo fondamentale sia dare ridimensionare dare il giusto valore al nostro tempo e come decidiamo spenderlo però per fare tutto ciò per iniziare ad elaborare delle strategie di marketing che siano efficaci dobbiamo tornare indietro e farci delle domande abbiamo bisogno di avere dei dati relativi ai settori di competenza al nostro settore di competenza e alle attività svolte o che intendiamo svolgere quelle che vogliamo implementare quelle che invece magari vogliamo lasciare da parte al tipo di clientela a cui vogliamo rivolgerci e all'attuale situazione del mercato di riferimento e anche alle caratteristiche dei nostri competitors perché non dobbiamo smettere di misurarci con loro delle persone che si occupano delle nostre stesse materie quindi tutti questi dati sono indispensabili per capire la collocazione che il nostro studio legale dovrà avere nel mercato nel mercato che noi scegliamo e quindi anche la direzione che vogliamo dare alla comunicazione ma prima di mettere in campo una strategia dobbiamo darci noi degli obiettivi cioè capire noi sederci a tavolino e capire quali devono essere i nostri obiettivi innanzitutto avere sempre più clienti da servire ma questi clienti come devono essere devono essere passatemi il termine dei buoni clienti dei clienti anche che paghino con regolarità perché possiamo avere tanti clienti se però poi non riusciamo a far sì che ci sia un riscontro economico penso che poi tutti quanti chi partecipa a questo convegno è qui proprio perché vuole darsi degli obiettivi e vuole migliorare qualcosa quindi come dicevo prima avere anche avere i clienti buoni clienti ma anche avere un'organizzazione che consenta di ottimizzare il tempo i costi e anche il nostro lavoro quindi questo ci permetterà anche di riuscire a misurarci con i nostri competitors con quelli che fanno le stesse cose che facciamo noi però senza fare la guerra al ribasso perché il problema siamo questa crisi è arrivata perché piano piano siamo scalino come una scala in discesa siamo arrivati a una guerra sono arrivati diciamo a una guerra al ribasso tante volte ci troviamo di fronte a clienti che dicono l'avvocato X questa cosa me la fa e quindi dobbiamo anche capire noi fino a che punto c'è i paletti che vogliamo darci fino a che punto quell'azione diventa per noi conveniente fino a quando poi invece lasciare il cliente ad altri quindi dal ragionamento che è clienti lavoro guadagno dobbiamo fare un altro ragionamento che deve essere maggior numero di clienti buoni diciamo una migliore organizzazione e questo porta inevitabilmente a un maggior guadagno poi molto importante a questo proposito è l'analisi accurata della clientela delle aspettative e dei livelli di soddisfazione come dicono nel mondo anglosassone dobbiamo essere client oriented quindi orientati alla soddisfazione del cliente ieri mattina con il professor Costa abbiamo fatto un colloquio a studio molto interessante ci raccontava dell'aneddoto di un suo lavoro alla Ferrero in cui dovevano dovevano studiare diciamo il prodotto quest'uovo di cioccolato e decidono di proporlo a dei bambini e questi bambini si trovano a guardarlo e quindi prima di tutto gli si chiede cos'è che ti piace e lì tutti quanti i bambini lo assaggiavano lo guardavano lo osservavano e invece gli addetti ai lavori si mettevano a scrivere però il punto non è soltanto capire diciamo i pregi e la qualità del chiamiamolo prodotto in questo senso ma anche capire cosa porta in soddisfazione cosa si potrebbe migliorare quindi nel nostro caso perché abbiamo fidelizzato quel cliente cosa ha visto in noi o al contrario perché quel cliente non perché non si è creata quell'empatia o quel cliente quindi non ha voluto ha deciso di non continuare con noi sono delle domande fondamentali quindi innanzitutto dobbiamo e questi mi includo anch'io dobbiamo uscire un po' dalla nostra zona di comfort sederci e pensare farci delle domande metterci a studiare non solo la cartabbia ma anche il nostro come decidiamo di approcciarci al mercato e dare una direzione alle nostre decisioni dobbiamo inevitabilmente anche aprirci all'uso di nuovi strumenti e stabilire fino a dove l'azione diventa economicamente appetibile e dove invece non lo è quindi fare una una scrematura e prima di tutto qui dobbiamo iniziarci a chiedere chi siamo e e quale vogliamo che sia il nostro come uso un altro termine anglosassone mi criticherà Coppola il nostro core business cioè a cosa ci vogliamo dedicare ma è facile dire nel mondo dell'avvocatura civile penale amministrativo però dobbiamo fare un passo in più dobbiamo capire qual è l'ambito nel quale riusciamo a proporre delle prestazioni professionali che abbiano degli altissimi standard qualitativi e quindi dobbiamo conoscendo noi stessi possiamo individuare quindi quelle capacità quella predisposizione che ci distingue dagli altri e permetta di dare di stabilire qual è il nostro brand chi siamo noi e a chi vogliamo e a chi vogliamo rivolgerci era stato fatto anche dalla collega questo parallelismo con il mondo della medicina pensiamo mettiamoci dal punto di vista del cliente un cliente che deve scegliere un medico per un'operazione complicata noi ci chiediamo a chi si rivolgerà al medico di base o al medico generico oppure a quel medico che è specializzato nel risolvere in fare quell'operazione di cui abbiamo bisogno la risposta è chiara quando abbiamo un problema soprattutto se è un problema specifico andiamo da chi si occupa di quello e la stessa cosa farà il nostro cliente quando entra nel nostro studio legale ci parla della sua questione vuole capire fino a che punto qual è la nicchia in cui eccelliamo per poi valutare se a parità di condizioni e con altri competitors che inevitabilmente oggi ci sono anche per i vari trampolini che ci sono la tecnologia i social capire se affidare la sua questione che gli sta così a cuore bastatemi il termine qualunquista è uno che comunque fa un po' di tutto oppure se decide di affidarla a noi perché ci siamo differenziati dall'altro per la nostra specializzazione ed è proprio qui adesso concludo perché non voglio essere prolissa che però subentra il legal team il team legale perché è chiaro che noi non possiamo essere specialisti in tutte le materie altrimenti non è una cosa fa da sé e quindi dobbiamo reperire creare una come diceva il professor Costa prima una comunità dobbiamo creare una rete di colleghi che si occupino che dobbiamo avere dei punti di riferimento nell'ambito dei nostri colleghi quindi il marketing non è più verticale cioè professionista cliente ma deve essere la nostra rete la nostra organizzazione deve essere orizzontale e questo team legale quindi quali sono gli obiettivi ci permetterà di avere un maggior numero di clienti perché starò io ad indirizzare i miei clienti che hanno bisogno di una prestazione specialistica verso il collega e starà poi quel collega ad indirizzare i suoi clienti che hanno bisogno della mia prestazione verso di me e quindi al cliente viene fornita una prestazione di maggior qualità data da quella specializzazione da quel qualcosa in più che riusciamo ad offrirgli in ogni caso questo può essere il valore aggiunto è dato anche dal fatto che l'approccio sarà multidisciplinare perché se un cliente viene eseguito da più professionisti riusciamo a dargli a comporre un po' a comporre questo puzzle e a dargli una prestazione a 360 gradi quindi la maggior qualità del servizio che noi andiamo andiamo ad offrire legittimerà anche la richiesta di un compenso che sia adeguato al tipo di prestazione che andiamo a proporre e quindi ne deriva una maggior soddisfazione per il cliente perché sa di essere assistito al meglio per il professionista perché sia a livello professionale ed economica perché per quello che ha portato il cliente perché sa perché gli verrà riconosciuto anche economicamente il fatto di aver portato il cliente quindi sarà codifensore per l'avvocato specialista che verrà incaricato perché comunque ha avuto la possibilità di seguire un cliente che in caso contrario non avrebbe non si sarebbe potuto mettere in contatto con lui quindi il succo che dobbiamo imparare a delegare è ciò che non possiamo fare ma anche quello che sarebbe troppo dispendioso fare per noi ed è lì che nasce dobbiamo cercare di organizzarci in una rete di professionisti in modo ad andare a coprire tutte le vaste aree che il mercato passatemi il termine legale comporta io avrei tantissimo da dire l'unica cosa l'ultimo accenno è che tutto questo deve essere fatto sempre ed è fondamentale dobbiamo essere chirurgici in questo nel rispetto dei nostri principi etici ma anche professionali quindi era stato proprio il nostro presidente Paolo Nesta a fare un accenno all'articolo 10 della legge professionale forense che stabilisce questi limiti entro i quali non possiamo andare e non dobbiamo andare ma non solo per noi stessi e per le sanzioni perché quella è soltanto una conseguenza ma per il modo in cui decidiamo di porci cioè il nostro brand deve essere etico il nostro brand deve essere orientato alla soddisfazione della clientela e quindi implicitamente non diventa un limite ma diventa una parte di noi stessi e avrei tanto da dire però concludo qui le rimando ad altri convegni che stiamo pensando di organizzare grazie grazie solo una chiosa velocissima lavorare in team è vero sta diventando il nuovo mantra però ricordiamo che tutto nasce su una professione che legalmente culturalmente si fonda ancora specie per le generazioni di mezzo e quelle un po' avanzate sulla personalità della prestazione quindi l'obiettivo è proprio fare questo switch culturale questo passaggio in avanti buona fortuna è un lavoro molto impegnativo ma sicuramente più facile che venga dalle generazioni come la vostra allora io vi ringrazio lascio la chiusura al nostro tesoriere che è rimasto qui con noi fino alla fine e che è sempre stato un grande tifoso della commissione marketing e da quando ebbi l'idea mi ha sempre appoggiato con convinzione non per amicizia concludi tu Paolo grazie grazie Rino volevo tranquillizzare Prisca l'abbiamo detto all'inizio questo è solo il primo di tanti incontri che faremo come commissione marketing e come ordine io ringrazio veramente di cuore tutti i redatori inizio per cavalleria dalla collega l'avvocato Giulia Facchini da Torino il professor Costa il dottor Galimberti il dottor Coppola chiedo perdono a Claudia dottoressa Morelli che avrei dovuto ringraziare subito dopo la collega Facchini ma è veramente una di noi un'amica che sarà con noi ancora ospite abbiamo messo tanta carne sul fuoco e continueremo a cuocerla consentitemi questa battuta e ad affrontare questo che abbiamo detto all'inizio è un tema di grandissima attualità del futuro il futuro dell'avvocatura grazie ancora a tutti voi al prossimo incontro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti